buongiorno a tutte e tutti e vi ringrazio per essere qui questa mattina di per condividere con noi questa esperienza come Coug la prima volta che la facciamo che facciamo queste esperienze in modalità distanza e per cui vorrete scusarci se magari ci sarà qualche diciamo qualche piccolo rallentamento o qualche difficoltà di carattere tecnico che non credo poi alla fine ci sarà perché abbiamo il supporto dell'ufficio comunicazione che è pronto eventualmente ad intervenire. I miei saluti li farò dopo in maniera più completa e adesso ho piacere di lasciare la parola al direttore generale dottor Alessandro Bratti che appunto rivolgerà a tutti noi i saluti istituzionali. In termini di giornata ci sarà invece di mattinata ci sarà invece anche il presidente che ugualmente vuole appunto salutare tutti noi che abbiamo che avremo partecipato a questa mattinata. Prego direttore. Buongiorno buongiorno a tutti e a tutte le grazie veramente di questo di questo invito. Il tema è un tema molto complesso si rischia anche di essere banali o retorici quando si affrontano temi così profondi così importanti purtroppo anche così attuali. Già ieri in tutti i media e tutti i telegiornali insomma ci sono stati anche in tutti i palinsesti ci sono stati di tantissime trasmissioni interessanti confronti che hanno affrontato questo argomento della violenza contro le donne. Quindi veramente è stata una giornata e sono iniziative molto importanti che tutti lo dicono e io lo condivido non devono rimanere a sé stanti ma speriamo davvero che incidano poi nell'andamento normale della nostra vita quotidiana. Difficile, è un momento complicato che tra l'altro è stato, ho visto i dati ulteriormente aggravato da questa situazione del lockdown, cioè il fatto di avere in un qualche modo costretto le persone a vivere anche in uno spazio fisico limitato in determinate condizioni ha incrementato moltissimo questo fenomeno così negativo e questo fa pensare ovviamente. Il momento è complicato, non sono certamente io ad averlo scoperto, anche questo tipo di iniziativa che stiamo facendo noi che è importante averla fatta, averla mantenuta avrebbe sicuramente avuto un altro significato fatto in presenza, è inutile negarcelo perché non c'è dubbio che internet e queste modalità aiutano comunque a rimanere in un qualche modo in rapporto, ma io sono un sostenitore che il contatto fisico sia comunque fondamentale, importante, soprattutto quando ci sono attività dove ci sono anche degli scambi di natura emozionale, cioè scambiare le emozioni attraverso un web, attraverso un webinar è molto complicato. Però detto questo ho visto questo manufatto che avete costruito all'interno dell'istituto e l'ho trovato questa mattina veramente molto centrato e molto adeguato al tipo di messaggio che avete intenzione di dare oggi, quindi vi volevo fare i complimenti sia per aver organizzato questa giornata e quindi al Presidente, a Rossella, a tutti e tutti i componenti del Cug, ma veramente questa idea di aver costruito questo manufatto credo sia stata un'idea molto molto importante e anche diciamo caratterizzante, rimarrà, è una di quelle cose che poi tutti si ricordano e io credo che questo sia veramente importante. Ecco, queste poche parole volevo dirvi e ovviamente voglio ringraziare tutti i nostri ospiti per aver accettato di partecipare a questo webinar e sono sicuro che la giornata di oggi, ecco, verrà ricordata per tanti motivi. Quindi grazie ancora, complimenti e vi auguro davvero un buon lavoro. Grazie. Grazie direttore. Grazie direttore. Allora Questa mattina Renata? Eccomi. Allora, questa mattina abbiamo il piacere non solo di avere collegati i colleghi e colleghe ISPRA, ma anche degli ospiti esterni e quindi prima ho tralasciato la mia presentazione, io sono il Viragatta, presidente del Fugistra e do di nuovo il benvenuto a tutti i presenti e ai nostri relatori che hanno diciamo accolto con piacere e sono qui oggi con noi per parlarci appunto di questo tema molto particolare, di questo fenomeno molto complesso che è la violenza contro le donne. Questo incontro in questi giorni è ormai divenuto un appuntamento fisso per ISPRA. Ilvira, mi scusi un attimo, volevo, perché dopo sennò mi sgridano, volevo ringraziare anche ovviamente Renata Montessanti, il suo staff, per tutto il supporto che è stato dato per fare in modo che questo evento abbia il successo che merita. Spesso si dà per scontato questo tipo di lavoro del backstage, ma in realtà è molto importante. Scusi se l'ho interrotta. No, 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 prego. Grazie direttore comunque. Dicevo che appunto ISPRA e il Cug di ISPRA tiene tantissimo a questa iniziativa e ad iniziative analoghe perché vuole contribuire a lanciare un segnale alle nostre coscienze riguardo il fenomeno della violenza contro le donne. Un fenomeno, come diceva il direttore, che è in continua scesa e infatti ascoltavo ieri un telegiornale e diceva che appunto in questo 2020 si può contare un femminicidio ogni tre giorni. E appunto, sempre come diceva il direttore, proprio il Covid che ci ha costretto a restare a casa, casa che è il luogo in cui il più delle volte maturano proprio questi atti afferati contro le donne. E quindi durante il lockdown c'è stato un incremento molto fondamentale, molto importante degli omicidi, ma in particolare dei femminicidi, con un picco proprio nei giorni del lockdown. Quindi perché teniamo così tanto a celebrare questo giorno? Perché pensiamo che è necessario combattere questo problema complesso e delicato della violenza di genere e per poterlo combattere è necessario innanzitutto comprenderlo ed essere consapevoli che esiste. Perché è importante contribuire anche a sensibilizzare le coscienze, a partire dai luoghi di lavoro, per arrivare alle famiglie, perché la famiglia è il contesto in cui soprattutto maturano gli atti di violenza di cui oggi parleremo. È perché è fondamentale concorrere a creare un momento di riflessione comune, per contribuire a creare le condizioni culturali, per promuovere una mentalità nuova in cui vengano contannate tutte le forme di violenza, da quella più abberrante del femminicidio a quelle più nascoste e subdole della violenza psicologica o dello stalking, ad esempio. Durante questa mattinata avremo il piacere e l'onore di ascoltare illustri ospiti, tra i quali l'architetta Samantha Sinistri, la professoressa Anna Maria Giannini, il filosofo Lorenzo Gasparrini e la giornalista Silvia Garambua, che naturalmente ringrazio. Ringrazio quindi i nostri ospiti per aver aderito a questa iniziativa in cui si parlerà dello scenario devastante e drammatico della violenza maschile contro le donne, che pervade la nostra società a tutti i livelli e senza distinzione di classi sociali. Il focus di quest'anno sono le parole della violenza, cioè la violenza sessista del linguaggio che passa dagli insulti agli stereotipi di genere comunemente accettati. Si parlerà quindi di misure di sostegno, prevenzione e protezione contro le violenze sulle donne e come gli uomini si pongono rispetto al problema di genere. Non mi dilungo oltre e concludo ringraziando tutti voi presenti, relatori e divertici ISPRA per la sensibilità che anno dopo anno dimostrano rendendo possibili eventi come questi e per la fiducia che costantemente rinnovano. Infine un ringraziamento anche alle colleghe della comunicazione per l'appunto che ci stanno accompagnando in questo percorso gestendo le piattaforme digitali in uso all'istituto. Non mi dilungo oltre perché la mattinata presenta una serie di interventi molto intensi e quindi augurandovi buona partecipazione lascio la parola a Rossella Salaris che modererà la mattinata. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio il direttore per aver voluto dare il suo importante contributo a questa celebrazione, la presidente del Google Viragata, tutti i relatori, ovviamente le colleghe della comunicazione e tutti quelli che partecipano a questo webinar. Vi informo anche che sarà possibile inserire in chat delle domande ai relatori che saranno lette alla fine degli interventi. Quindi cominciamo questa giornata mostrandovi le immagini dell'opera allestite nella sede di Via Brancati 48. L'architetta Sinistri che lo scorso anno ha presentato con la sua associazione Eterotopia un'opera alla Biennale di Architettura di Venezia ha progettato per il Cug per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne un'installazione artistica che rappresenta un percorso di riflessione sulle parole violente che le donne subiscono quotidianamente. E gliela lascio descrivere. Prego, architetta. Architetta, deve attivare l'audio. Eccomi. Buongiorno a tutti e a tutte. Innanzitutto ringrazio l'ISPRA e il Cug per avermi dato la possibilità di lavorare su un tema a me molto caro. È stato veramente un onore essere incaricata di pensare e realizzare un'opera che spero lasci il tegno e faccia riflettere. Vorrei mostrare delle immagini che abbiamo fatto ieri. Datemi un secondo. Condivido lo schermo. Dunque, credo che le immagini siano visibili. Sì. Eccoci qua. Nel frattempo, senza dilungarmi oltre, leggerò la descrizione che è visibile anche sul pannello esplicativo dell'opera. Nel frattempo mando avanti le immagini. Quindi l'installazione propone un'esperienza immersiva nella violenza verbale che le donne subiscono in maniera più o meno diretta o esplicita nella loro quotidianità. Si presenta come una serie di pannelli che definiscono un percorso. Lo spazio che ne deriva è intimo ed angusto. Sulle pareti interne sono scritte parole violente, insulti sessiti, pregiudizi e frasi discriminatori sulle donne. La persona che visita l'installazione, una volta entrata nello spazio, legge le scritte sovrapposte alla propria immagine riflessa. L'impatto è violento e il disagio provocato è voluto ed amplificato dalla sensazione di smarrimento tipica dei labirinti di specchi. L'installazione propone una riflessione sul linguaggio che nell'uso comune si rivolge alle donne e crea le condizioni per un momento di intima riflessione sulle emozioni che le parole violente suscitano quando ne siamo vittime. In alcune immagini compaio io come modella. L'obiettivo era appunto quello di... Un secondo che interrompo la condivisione. Bello. Bello. Come torno al... Allora, per interrompere c'è un tasto rosso che dice interrompi condivisione. Un share. In alto. Ok. Perfetto. Scusate. Quindi l'obiettivo era appunto quello di... Credo in realtà la descrizione sia abbastanza esaustiva. Comunque sì, quello di creare questa esperienza e credo poi che in effetti nella nella pratica l'obiettivo è stato centrato perché in effetti questo rapporto di specchi moltiplica l'immagine riflessa quasi all'infinito e quindi proprio amplifica anche l'esperienza stessa, no? Quindi credo che poi il visitatore vedendo la propria immagine riflessa e moltiplicata e con le scritte sovrapposte viva proprio molto intensamente la sensazione violenta che purtroppo siamo spesso costrette a vivere in quanto donne. Perfetto. È una domanda, architetta. Ha avuto difficoltà a trovare le parole da inserire nell'installazione? Provocatorie, ovviamente. Sì, dunque. In rete si trovano moltissime di queste espressioni. Io quello che ho cercato di fare è stata selezionare alcune, selezionarle in base un po' al target di riferimento, no? Quindi ho cercato di medesimarmi, diciamo, nel dipendente ISPRA tipo e quindi le ho selezionate in base al contesto nel quale più spesso poi si esprimono queste frasi. Quindi molte sono riferite appunto a un ambiente lavorativo, a discriminazioni che avvengono nel contesto lavorativo. Io stessa posso raccontare in chiusura questo episodio del quale sono stata vittima che mi ha fatto molto riflettere negli ultimi anni perché io ero appunto alla fine del mio percorso universitario e un collega che si è laureato qualche mese prima di me mi disse, eh Samantha, alle prime esperienze di cantiere mi disse, il cantiere non è un posto per donne. E lo disse con una leggeretta che per lì per me fu quasi disarmante, io non seppi che rispondere in quel momento. Però poi effettivamente è una frase che mi ha parecchio turbato e finché poi non ho realizzato mesi a seguire quando poi nel cantiere mi ci sono trovata che quanto fosse potente quell'espressione riferita poi a una persona che si stava formando per lavorare su un cantiere. Quindi aveva proprio dell'assurdo il fatto che lui si fosse permesso di esprimersi in quel modo nei miei confronti. Soprattutto perché poi effettivamente in un cantiere, così come credo in moltissimi in tutti i contesti lavorativi, ma forse di più in quelli prevalentemente maschili, poi in effetti quello che conta è l'adorevolezza della persona che ricopre un certo ruolo. Quindi io mi sono trovata a lavorare, le prime esperienze addirittura le ho fatte in paesi che non sono quelle, che non è l'Italia. Ho lavorato insomma nel continente africano e in quello sudamericano e vabbè per tutta una serie di altre dinamiche sociali e politiche che non ho neanche le competenze per analizzare, però insomma in quei contesti effettivamente l'architetta parla e gli altri, insomma gli operai eseguono senza troppi giri di parole, senza che nessuno si senta minacciato nella propria autorevolezza o dignità. Ecco, quindi ecco la cosa poi che mi era, che mi era la riflessione che avevo fatto era se certi luoghi non sono adatti alle donne perché ci sono, o meglio se nel senso comune si dice che certi luoghi non siano adatti alle donne è perché ci sono degli uomini e anche delle donne che che lo permettono. Quindi ecco il messaggio che lancio è in un cantiere per esempio in contesti lavorativi simili il primo passo da fare è quello sicuramente di non avvallare certi certi comportamenti e sicuramente poi se tutti lavoriamo nella stessa direzione le cose cambieranno. Concludo. Benissimo, grazie architetta, veramente un contributo importante e significativo e anche la sua opera è veramente molto bella ed emozionante immagino dalle foto perlomeno perché ancora non l'ho vista. dunque vi propongo adesso un'altra emozione molto forte e vedremo un video che ci introduce sull'argomento delle parole della violenza. Ma che bella bambina, sembri proprio una principessa. Non ti arrabbiare troppo se ti alzano la gonna a scuola, sono cose da maschi. Comportati da femminuccia. Le signorine non alzano mai la voce. I capelli cortili hanno soli maschi. I videogiochi sono cose da maschi. Le cucine giocattolo sono da femmina. Stai zitta. Puttana. Non sei ancora fidanzata? Sei fidanzata? Di già? Ho saputo che fai i pompini al tuo ragazzo, troia. Dovresti essere contenta se ti guardano. Ovvio che ti molestano. Guarda come ti vesti. Vestita così sembri una suora. Non ti sembri volgare? Ma non è che sei ninfomane? Ma non è che sei frigida? Che c'hai le tue cose? Non parlarmi così davanti ai miei amici? Sei una bella puledra da domare. Balli così per provocarmi. Cioè posso nel tuo culo? Devi essere più dolce e obbediente. Sei mia. Sei troppo intelligente. Che donna con le palle. Chissà con quel bel culo che carriera farai. Ho visto il suo curriculum ma lo sa che lei ha proprio un bel faccino. Lei è troppo bella. A me serve una cozza intelligente. Oltre alla vista delle tue tette hai altro da offrirmi? In ufficio tu sei stata classificata come più che chiavabile. Sei stressata perché hai bisogno di una bella scopata. Signorina ci porterebbe un caffè. Non puoi andare al lavoro con quella gonna corta. Ti tra i colleghi. Perché ti vesti come un maschio? Perché ti vesti così sexy? Perché non ti vesti più sexy? Perché non ti copri un po'? Sei una figa di legno. A pari livello preferiamo assumere un uomo. Scusa ma ci sei solo tu? Non posso parlare con un uomo? Meglio mi dici uomini. Meglio i capi uomini. Domani incontro dal cliente. Mettiti bella scollata. Non vuoi avere figli? Sei una cattiva moglie. Sei una cattiva madre. Iniziano a venirti le rughe. Ritocchino? Hai fatto stirare mio figlio? Io non lavo i piatti in casa, si è chiaro. Che c'è per pranzo? Che c'è per cena? L'uomo è infedele per natura. La donna non può e non deve. Non metterti quella guanna se non ci sono io, cazzo. Scopi con tutti, puttana. Guarda cosa mi hai fatto fare. Ti amo, piccola. Per questo ti proteggo. Lasciami e ti ammasso. Ti ammasso. Allora, devo dire... Che nonostante abbia visto questo video più volte e effettivamente l'ho visto in solitudine, quindi diciamo con un audio maggiore e una resa migliore di quella che c'è stata adesso, effettivamente sono sempre parole che lasciano scossi. Eppure mi è capitato spesso, ultimamente, ogni volta che si parla di problemi legati al linguaggio sessista, di ricevere commenti come non ci sono cose più importanti di cui preoccuparsi, ma non è questo che cambia le cose. È davvero una questione così seria? Ebbene sì, è una questione seria. Il linguaggio veicola significati e messaggi che si radicano nel modo di pensare e di percepire fenomeni. Può essere esso stesso una forma di violenza e discriminazione. Durante la pandemia abbiamo utilizzato le parole «Andrà tutto bene» per tranquillizzare e dare speranza, ma quando il 10 maggio del 2020 la notizia della liberazione di Silvia Romano si diffonde nei social, la giovane rapita in Kenya diviene in pochi istanti il bersaglio di attacchi di ogni genere, tra auguri di morte e insulti sessisti. Il discorso d'odio non è di certo una novità, ma oggi ha trovato il modo di dilagare ovunque, inquinando ogni canale del dibattito pubblico, dai social ai media tradizionali. Un linguaggio sempre più violento e pervasivo. Molte sfumature caratterizzano le parole violente rivolte verso le donne, tutte codificate come fenomeni ripetuti e non occasionali. Late speech, gli incitamenti all'odio in rete, come appunto il caso di Silvia Romano, o lo stupro verbale rivolto verso la presidente Laura Boldrini. Il catcalling, le frasi ammiccanti rivolte da uomini sconosciuti verso donne che camminano per strada, che in Francia è reato. Il body shaming, la derisione dell'aspetto fisico, quali ad esempio le offese rivolte alla giornalista Giovanna Botteri. Il mansplaining, l'atteggiamento paternalistico di alcuni uomini quando spiegano a una donna qualcosa di ovvio, oppure qualcosa di cui lei è esperta, perché pensano di saperne sempre e comunque più di lei, oppure che lei non capisca davvero. Purtroppo, gli stereotipi in materia di violenza contro le donne sono tuttora tenacemente presenti. Ancora oggi, incredibilmente, è la donna, anche se vittima, ad essere messa al centro del giudizio. Le parole che la descrivono le infliggono un ulteriore trauma, come nel recente processo d'appello celebrato nel 2017 ad Ancona, sentenza fortunatamente annulata in Cassazione, dove la vittima dello stupro viene definita la scaltra peruviana e derisa per il suo aspetto fisico. Eppure sono state introdotte importanti innovazioni giuridiche, quali la Convenzione di Istanbul del 2011, la direttiva UE 29 del 2012, che hanno inquadrato opportunamente la violenza di genere come violazione dei diritti umani. Ma i dati relativi al fenomeno ci rimandano al contrario una realtà in cui gli abusi e i sopprusi non hanno segnato alcun arretramento. Certamente le cause dell'inefficacia degli strumenti giuridici sono da ricercare nelle scarse misure di prevenzione e di contrasto adottate, ma ancora di più in un contesto culturale privo di anticorpi per arginare la violenza contro le donne, incapace di garantire le pari opportunità e di combattere gli stereotipi di genere. Ma quali sono le necessarie azioni di contrasto alla violenza? Lo chiediamo alla professoressa Giannini, professoressa ordinaria di psicologia generale e docente di psicologia giuridica e forense presso l'Università La Sapienza. Prego, professoressa. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Grazie per l'invito a questo importante evento. Quindi grazie a tutti e tutti coloro che l'hanno organizzato. Quindi ci rendono possibile in questa mattinata un scambio di riflessioni importante. Importante e devo dire iniziato con delle belle attivazioni emozionali, belle nel senso di efficaci, toccanti, ma tragiche nei loro contenuti. Faccio tutti i miei complimenti all'architetta che ha progettato questa bellissima installazione e l'occasione è troppo idiotta per non farle qualche commento psicologico. L'uso degli specchi e l'accorgimento meraviglioso dell'immagine della persona davanti allo specchio con le frasi che passano davanti è stato un intuito psicologico straordinario, architetta, perché scatena un meccanismo empatico molto forte. Io spero di avere occasione di vedere l'installazione in presenza e chiedo di poterlo fare perché mi piacerebbe moltissimo. L'impatto sarà senz'altro molto maggiore, ma già così via video scatena un meccanismo empatico enorme. Noi già siamo colpiti e colpite quando sentiamo queste frasi magari rivolte ad altri, ma vederle riflesse sul proprio corpo è qualcosa di assolutamente diverso e molto profondo. Credo che questa installazione dovrebbe essere usata per scopo formativo ed educativo. Io insegno in un'università e se ci sarà occasione, che è la sapienza, e ho molti studenti nel mio corso di laurea di psicologia, giuridica, forenza e criminologica, e se ci sarà occasione, se lei vorrà, mi piacerebbe davvero invitare lei e gli altri amici e amici oggi presenti per coinvolgere gli studenti in questa esperienza profonda, perché è anche dai banchi delle scuole e dell'università che inizia un cambiamento che dobbiamo veramente tutti porre in essere. Grazie a lei per averci dato questa meravigliosa occasione. Il filmato è a sua volta un filmato estremamente toccante e termina con una frase dalla quale mi piace dare inizio, diciamo, a qualche riflessione. Le parole formano i pensieri e i pensieri formano le azioni. Proprio vero. Quello che noi nel filmato abbiamo letto sono parole terribili che urtano, sono pugni nello stomaco, sono parole che vanno dal violento, passando per il volgare, attraverso meccanismi che sono veramente crudeli. Meccanismi però che colpiscono le donne da tanto. Non è una novità questa, purtroppo. E li potremmo categorizzare sotto il termine di violenza psicologica. Dico questo perché mentre la violenza fisica è forse più sotto l'attenzione di tutti, intanto perché è riflettabile, le donne vanno a pronto soccorso e si fanno refertare per le violenze fisiche ricevute che sono osservabili, refertabili e ci colpiscono perché sono qualcosa che si vede. La violenza psicologica spesso non si vede, viene subita in assoluto silenzio, non viene nemmeno raccontata perché le donne, e poi farò qualche passaggio sul perché, a volte arrivano addirittura a vergognarsi di raccontare quello che accade loro e quindi questo crea ancora più solitudine e ancora più isolamento in un meccanismo che è veramente violento e che purtroppo, come dire, non è senz'altro meno di impatto rispetto alla violenza fisica, anche se fisicamente o per la sopravvivenza meno pericoloso, ma relativamente meno pericoloso, poi dirò perché. Allora, nella violenza psicologica spesso nascono e si possono rintracciare gli antecedenti di quella che poi diventa violenza fisica. Noi in questi giorni abbiamo ascoltato e abbiamo letto quali sono i dati del 2020. All'inizio, nell'introduzione di questo interessante evento, e proprio il direttore citava il peggioramento durante il lockdown, e ce lo dicono i dati, maggiori chiamate ai centri, difficoltà e sofferenza delle persone che avevano più difficoltà naturalmente ad essere soccorse perché avevano un'esposizione continua al loro aggressore e quindi chiaramente pochissime, ancora meno, diciamo, possibilità di trarsi in salvo e quindi durante il lockdown abbiamo avuto un quadro ancora più drammatico. È vero che i dati sono sconcertanti, i dati diffusi dalla direzione centrale della polizia criminale indicano una persistenza di numeri spaventosi che riguardano il femminicidio, riguardano una persistenza di numeri alti di denunce per maltrattamento e quello è solo ciò che arriva agli organi di polizia perché poi c'è un numero scuro, il numero di quelle donne che soffrono in silenzio e che non denunciano per ragioni che adesso prenderemo in considerazione e quindi dobbiamo immaginare un numero molto più esteso rispetto a quello che ci viene comunicato dai dati sia nel nostro paese che anche in altri paesi dove analogamente si riscontra il fenomeno. Io dico sempre però che fosse anche una sola la donna aggredita varrebbe la pena fare ricerca, formazione, eventi come questo perché le vittime quando sono tante creano l'impressione realistica di una sofferenza generale ma la sofferenza di chi è aggredito è qualcosa di talmente impattante è una tale tragedia che anche fosse una sola la persona varrebbe veramente la pena di spendere tutte le nostre energie per cercare di salvarla e la grande operazione che noi tutti dobbiamo fare perché funziona solo se è in rete è quella di prevenzione perché la prevenzione è quella che cambia la cultura cambia il modo di pensare cambia gli stereotipi di ruolo e quindi cambia anche i comportamenti una delle domande che mi vengono più spesso rivolte riguarda proprio il perché del numero scuro il perché le donne non denunciano allora questa era una riflessione è una riflessione che vorrei condividere io lavoro in una facoltà mi insegno in una facoltà di medicina e psicologia che è connessa con un ospedale che è il Sant'Andrea e sia nel pronto soccorso dell'ospedale in cui lavoro ma anche in altre occasioni relative a pronto soccorso di altri ospedali dove arrivano donne picchiate e donne che hanno subito attacchi violenti forti spesso arrivano accompagnate dal loro aggressore che pretende di entrare per controllare quello che dicono e noi dobbiamo fare grandi sforzi per tenerli fuori e distanti e dire intanto noi sentiamo la signora lei rimanga qui e cercare poi di fare in modo adesso la denuncia chiaramente è d'ufficio e non è più acquarella di parte grandi cambiamenti sono stati fatti recentemente anche con il codice rosso e quindi grandi cambiamenti giuridici e normativi adesso ci aiutano nel trarre in salvo le donne ma resta questo fenomeno che molti hanno difficoltà a comprendere del perché si verifica questo straordinario e per certi versi incomprensibile se non si ricorre a un'analisi psicologica un po' più profonda fenomeno per cui a volte donne che arrivano in pronto soccorso per esempio al Sant'Andrea alla settima volta per fratture multiple con echimosi quindi con aggressioni importanti ci chiedono per favore non denunciate cosa che noi chiaramente non possiamo neanche fare ma sono preoccupate di dire non dite nulla non chiamate la polizia quando arrivano sette volte da noi non possiamo escludere che altre volte si siamo rivolte ad altri ospedali perché chiaramente i database sono diversi e però basterebbe per una riflessione diciamo attenta il chiedersi perché dopo sette volte che tu arrivi con fratture multiple e che addirittura noi ci siamo dovuti dotare di radiologi che nel referto ci scrivono non è compatibile con essere caduti dalle scale queste fratture non sono compatibili con aver sbattuto la testa allo spigolo la diffusione delle fratture nel corpo non è compatibile con la dichiarazione della signora che sostiene di aver sbattuto contro il divano ed essere rimbalzata verso il tavolo quindi addirittura arriviamo a questo ma perché non sono donne cognitivamente svantaggiate quelle che vengono in pronto soccorso e dicono ho sbattuto contro lo spigolo sono caduta dalle scale spesso i medici ci dicono ma questa donna ma possibile ma allora non capisce ma allora non è così cioè il problema è assolutamente un problema emotivo profondo mentre è facile o relativamente più facile cercare di assicurare alla giustizia un aggressore che è un estraneo se veniamo aggrediti per la strada è più semplice ed è lineare cercare di in qualche modo raccontare esporre che questa persona ci ha aggredito l'unica eccezione in genere in passato adesso per fortuna un po' di meno riguardava i reati di stupro dove le donne sono poi sottoposte alla narrazione di eventi particolarmente sconvolgenti e terribili perché sono devastanti e quindi a volte anche lì si rimaneva nel numero scuro oggi accade di meno per fortuna perché l'idea di certe domande poste dall'avvocato di difesa dell'imputato erano come dire terribili terribili e colpevolizzanti per la vittima però a parte questo tipo di reato i reati che vengono posti in essere dagli estranei sono tranquillamente raccontati esposti denunciati ma se l'aggressore è una persona alla quale noi siamo stati legati da affetto da amore è la persona con cui abbiamo avuto dei figli è la persona con la quale abbiamo trascorso una parte della nostra vita ed è una persona con la quale è nato un rapporto affettivo profondo diventa difficile proprio per la mente proprio per psicologicamente per i nostri meccanismi mentali consapevolizzare in pieno che quella persona è cambiata che quella persona non è più la persona che noi avevamo sposato con la quale avevamo iniziato una convivenza o con la quale abbiamo avuto i nostri figli ma ha cominciato ad adottare dei comportamenti che non solo sono pericolosi nel momento in cui li adotta ma rischiano di incrementare e quindi di evolvere di recidivare e di diventare ancora peggiore ma perché la mente ha difficoltà a consapevolizzare questo tipo di cambiamento per tante ragioni il primo è la prima ragione la ragione che le donne adducono è la difficoltà a prevedere e a progettare la loro vita fuori da quella situazione alcune volte ci sono ragioni anche riscontrabili in aspetti pratici le donne ci dicono ma io dopo dove vado a vivere non posso trascorrere la mia vita in una casa rifugio dove andrò cosa farò che fine faranno i miei figli un'altra ragione che spesso ci di adducono è ma cosa faccio denuncio il padre dei miei figli avranno un padre denunciato per colpa mia avranno uno sviluppo disturbato per colpa mia l'altra ragione più profonda è quella di riconoscere il fallimento di un rapporto di riconoscere che ciò che era stato progettazione entusiasmo è diventato qualche altra cosa questi aspetti difensivi tra virgolette di difesa psichica che le donne mettono in campo per motivi profondi trovano poi un appoggio diciamo nel comportamento dell'aggressore che non è un comportamento sempre di aggressione nessuno si sveglia picchiando e va a dormire picchiando questi uomini alternano le botte gli spintoni gli urti le fratture che provocano a momenti in cui dichiarano pentimento piangono chiedono alla compagna di perdonarli dicono ma io lo cambierò e la donna aderisce dicendo forse io posso cambiarlo forse posso dargli un'ulteriore possibilità e questo meccanismo diventa difficilissimo da scardinare perché è come se la donna si aggrappasse al fatto che quell'uomo può essere sempre così può arrivare ad essere sempre così e non colui che picchia a volte le vittime arrivano addirittura a colpevolizzarsi io dico sempre sono vittime più volte sono vittime di tante azioni violente perché perché un uomo violento devasta l'autostima della propria donna della propria compagna e uso il termine propria donna perché è il termine che usano loro il senso di proprietà allora l'uomo violento che considera la donna una sua proprietà la sua compagna la sua moglie una sua proprietà quindi colei sulla quale ha completo potere ecco che in qualche modo l'autostima e il senso di valore delle donne aggredite diminuisce sempre di più diminuisce al punto che la persona non solo arriva a dire ma lo avrò provocato io ma forse è meglio se sto zitta quando lui mi aggredisce e così magari smette di farlo altre volte ancora la vittimizzazione è tale che intorno a queste donne ci sono amiche madri sorelle che invitano a sopportare purtroppo ancora oggi succede che dicono ma in fondo è tuo marito ti mantiene porta a casa i soldi vedi tu non hai un lavoro in certi casi oppure se ce l'hanno ma cosa fai con il tuo solo lavoro non ce la farai a mantenere i tuoi figli abbi pazienza ecco questo abbi pazienza sopporta è una cosa privata è qualcosa di terribile che rivittimizza plurivittimizza le donne il fatto di non sentirsi neppure autorizzate tra virgolette a rendere pubblico ciò che di terribile accade loro perché ci sono una serie di forze che dicono loro non lo devi mantenere privato e prima che dalla decisione quadro d'Europa del 2001 e poi successive convenzione di Istanbul e moltissime normative linee guida accordi convenzioni facessero luce sull'importanza della formazione al personale sanitario e agli organi di polizia a volte era anche la polizia a dire ma dai è tuo marito lascia perdere fate pace polizia andava via di casa dicendo fate pace dove aveva trovato sangue bambini che urlavano ma non lo facevano per incompetenza lo facevano perché la dimensione culturale all'epoca andava in quella direzione non si erano fatti tanti passaggi che poi per fortuna si sono fatti e oggi gli operatori di polizia non lascerebbero le donne in questa condizione dicendo sopporta lascia perdere dicevo prima che la violenza psicologica ha una rilevanza enorme e le parole quindi diciamo il tema il clou di questo evento di oggi ci dicono proprio questo cioè quanto alcune parole esercitano violenza psicologica e quello che è importante fare da un punto di vista del rendere consapevoli e questa è un'azione importante di prevenzione è mettere in luce quanto accanto alla violenza fisica che come dicevo è quella più riconoscibile esistono altri tipi di violenza quella psicologica economica sessuale alcuni uomini ritengono che siccome quella è la loro compagna o siccome quella è la loro moglie loro hanno diritto di imporle rapporti sessuali quando e come vogliono altri uomini esercitano una completa forma di controllo economico magari la donna non lavora o guadagna poco e loro controllano ogni spesa quindi qualsiasi anche comprarsi un paio di calze diventa una situazione in cui bisogna andare a chiedere quei pochi euro al proprio compagno o marito e immaginate quanto questo possa diventare umiliante per una persona quindi queste varie forme di violenza che spesso poi si accompagnano difficile immaginare una violenza fisica senza che ci sia anche una violenza psicologica una persona picchiata per forza di cose sarà una persona che si sentirà umiliata e che sentirà di essere diciamo messa in una situazione di disvalore sentirà che la sua autoefficacia è fortemente diminuita e le donne che riescono a uscire fortunatamente da queste forme di incubo sono donne che hanno molto bisogno di essere sostenute con l'empowerment perché rimanere in una relazione violenta indebolisce moltissimo l'autostima allora dicevo sono donne plurivittimizzate quando ci dicono ma io lo faccio per i miei figli quello che noi cerchiamo di far capire è che per un bambino rimanere in una situazione di violenza anche se non è colpito fisicamente in prima persona è comunque essere una vittima quella che si definisce vittima assistita per i bambini ci sono vari rischi il primo è una certezza sei vittima assistita vivi in un clima di dolore in cui il tuo papà picchia la tua mamma e tu non puoi non sentire dolore perché hai davanti un modello di persona violenta e un modello di persona che soccombe poi questo influisce nella traiettoria evolutiva perché il rischio forte che si corre è che un bambino copi il modello paterno e dica è così che va la vita le donne si debbono trattare in questo modo e che quindi faccia a sua volta la stessa cosa nel futuro delle sue relazioni affettive se è una bambina potrebbe copiare il modello materno e ritenere che è così che ci si vede trattare prendeva le botte mamma le prendeva zia le prenderò anch'io perché è così che va la vita e quindi abbassa la guardia oppure entrambi potrebbero subire dei blocchi affettivi e non instaurare mai relazioni profonde perché sanno che sono relazioni di dolore quindi non solo sono vittime assistite possono diventare vittime di una traiettoria di sviluppo disarmonica possono diventare orfani speciali se la loro madre verrà uccisa i figli di donne uccise per femminicidio sono orfani speciali questo termine usato da Anna Boldri una amica e collega che ha per tanti anni che ha speso tutta la sua vita per la ricerca e il sostegno alle donne vittime di violenza e che è recentemente scomparsa ha pubblicato un libro molto bello si chiama Orfani Speciali perché sono orfani speciali? perché sono orfani della madre che è stata uccisa ma anche del padre perché il padre è colui che ha ucciso la propria madre che quindi si trova in restrizione di libertà non è più il loro padre non può più esercitare le funzioni paterne e quindi sono soli dove vanno dai nonni se hanno dei nonni che possono curarsi di loro o in casa e famiglia o da parenti o da amici che decidono di occuparsi di loro ma sono orfani e quindi proseguono la loro vita in una condizione di terribile dolore quindi quanti tipi di vittimizzazione possiamo riscontrare? Quello che diciamo in qualche modo è importante nella formazione è poter rappresentare con attenzione questi aspetti perché possano essere diciamo recepiti e perché la rete che si occupa delle la rete che si occupa e che si deve occupare delle donne che iniziano un percorso per uscire dalla violenza sia una rete che mette veramente le donne al centro e che le possa sostenere in tutti i modi nel percorso difficile del sottrarsi all'uomo violento che non è affatto appunto un percorso facile nella prosecuzione della loro vita dopo quindi nel restituire a queste donne attraverso un empowerment efficace il senso di stima che hanno perduto e l'hanno perduto perché hanno vissuto per anni per tanto tempo in una condizione in cui è stato detto loro non vali niente quello che si sono sentite dire il più delle volte è stai zitta non vali niente non parlare quando ci sono i miei amici mi vergogno di te queste sono frasi vere riferite da donne mi vergogno di te tu non vali nulla tu non sei capace di fare nulla senza di me non saresti in grado nemmeno di sopravvivere e così via queste frasi dette ridette ripetute scolpiscono si scolpiscono nella mente della donna vittima di violenza e via via la convincono purtroppo come si fa a reagire se si è convinti di non poter vivere senza il maltrattante o se si è convinti che i propri figli ce l'avranno con te per tutta la vita perché tu hai maltrattato il loro padre maltrattato addirittura il maltrattante diventa la donna nel momento in cui denuncia quindi pensate a quale incredibile capovolgimento di significati si viene a creare allora io credo che sicuramente la formazione che è un aspetto importante accanto al sostegno e alla protezione debba passare attraverso il corridoio dell'empatia cioè far comprendere anche a livello emozionale per quello mi piace molto l'installazione del filmato che ho visto poco fa perché perché è solo cercando di portare i bambini e poi con il linguaggio ovviamente adeguato a loro e poi via via che crescono per tutti i cicli scolastici a comprendere che cosa vuol dire veramente essere una vittima e a comprendere che cosa vuol dire essere un aggressore perché perché deve cambiare la cultura e la cultura cambia anche a partire dalle parole soprattutto a partire dalle parole le parole colpiscono ci sono casi di ragazzine che si sono tolte la vita perché erano insultate nella rete e noi quando parliamo con i ragazzini loro compagni che pubblicano frasi aggressive che fanno body shaming eccetera e gli chiediamo ma ti rendi conto di che cosa hai fatto a questa tua compagna la risposta è sempre ma io mica l'ho picchiata ho solo scritto una cosa ho solo scritto una cosa è una frase terribile non hai solo scritto una cosa hai scritto una cosa che può colpire più di uno schiaffo hai scritto una cosa che fa violenza psicologica e finché tutto ciò passerà come qualcosa di non grave ecco che una pietra su un'altra pietra su un'altra pietra ci condurranno a quella che poi diventa invece la violenza fisica invece rendersi conto di quanti tipi di vittimizzazione vengono scatenati contro la donna ecco che può farci è l'unico modo che abbiamo di farci invertire la rotta prima si faceva l'esempio la moderatrice faceva l'opportuno esempio della ridda di frasi terribili contro la presidente Boldrini ma anche contro la bravissima giornalista Giovanna Botteri ecco questo ci dice quanta inciviltà ancora noi oggi incontriamo in un mondo in cui nel 2020 siamo ben distanti dall'epoca oscurantista e medievali non dovrebbe darsi ancora il fatto che le persone colpiscono qualcuno in modo discriminante quindi usando discriminazione pregiudizio e con modalità decisamente violente perché diciamo in qualche modo dovremmo essere su una strada su un percorso diversi però noi ci auguriamo io me lo auguro vivamente che eventi come questo che sono così importanti belli e ben costruiti ci portino veramente sulla strada di dover dire queste cose appartengono al passato le donne non sono più escluse isolate vittimizzate ma sono considerate come devono essere considerate grazie grazie prego Rossella di riattivare l'audio ok mi sentite sì grazie professoressa dicevo che sono arrivate molte domande e riflessioni nello stesso tempo ad alcune ha già ampiamente risposto lei in modo esaustivo magari ne posso sintetizzare diverse in questa domanda ovvero lei ci ha detto appunto che le vittime di violenza vengono in ospedale accompagnate dai mariti e si pongono mille problemi quindi legati al futuro legati al sostegno economico ai figli a quello che devono comunque al rapporto che hanno con la società esterna quindi sono tutte motivazioni psicologiche ma come facciamo come può la società quindi proteggere queste vittime aiutare ad uscire da questa impasse in che modo sì grazie per la domanda che è una domanda veramente cruciale diciamo il punto è questo cioè è proprio come possiamo aiutare persone che si trovano in condizioni così complesse io credo che la soluzione è la rete questo ce l'hanno insegnato ricerche scambi e confronti anche con altri paesi dove si affronta questo tipo di fenomeno quindi sono molto importanti i centri antiviolenza sono molto importanti le organizzazioni non governative che si occupano in maniera professionalmente eccellente di queste tematiche ma è importante che i vari operatori siano in contatto fra di loro e che quindi dall'ospedale così come accade adesso e così come fortemente raccomandato non solo dalla convenzione di Istanbul ma dal codice rosso eccetera parta una catena in cui intanto ci sia lo psicologo che possa parlare con la donna nel momento in cui c'è la difficoltà c'è l'accesso per esempio al pronto soccorso oppure la polizia è entrata in casa perché c'era una lite o diciamo in qualsiasi occasione si venga diciamo a conoscenza dell'episodio di violenza e che poi si possano stabilire la donna non deve essere lasciata sola si deve stabilire una catena di protezione attraverso i nodi di questa rete in cui ognuno fa la sua parte e accompagna la persona alla fuoriuscita dal tunnel della violenza quello che manca su cui dobbiamo molto lavorare è la parte della vita della persona dopo perché la persona sarà un periodo nella casa rifugio ma poi deve ricostruire la sua vita e allora quello che ci manca su cui bisogna molto lavorare sono le occasioni che le donne possono avere per avere un lavoro e poter proseguire indipendentemente la propria vita e prendersi cura dei loro figli quindi rimettere in moto tutti gli aspetti della loro esistenza che si sono interrotti in quella situazione altrimenti accade quello che purtroppo oggi con troppa frequenza accade che tornano dal maltrattante a volte ci tornano anche dopo che il maltrattante ha scontato la pena quando è in stato di detenzione per esempio e quindi il meccanismo ricomincia anche per un'altra ragione perché un altro aspetto che noi dobbiamo sviluppare è l'intervento di riabilitazione sul maltrattante perché se non si fa nulla quella persona dopo aver scontato la sua pena uscirà e non uscirà certo migliorato se non ha fatto nessun trattamento e quindi il meccanismo si può innescare di nuovo grazie allora un'altra domanda che mi sembra molto interessante è un'altra domanda fatta dalla collega Aquilini dove appunto lei sottolinea l'importanza diciamo del livello culturale delle persone che accolgono le denunce e quindi secondo me se lei appunto ci conferma questa cosa nel senso che ci deve essere oltre alla rete di protezione psicologica anche una rete di sostegno culturale verso queste donne giusto corretto è assolutamente fondamentale anche questa è una domanda cruciale chi raccoglie la denuncia o comunque chi interviene in un momento in cui si viene chiamati perché c'è in atto una questo sono i vicini di casa che sentono le urla chi interviene deve essere assolutamente preparato culturalmente e tecnicamente dal 2001 quindi dalla decisione quadro del Consiglio d'Europa che raccomandava ai paesi membri una formazione adeguata agli standard previsti di tutte le forze di polizia noi per esempio abbiamo sviluppato un progetto all'interno della linea Daphne il progetto era Attention for Victims of Crime in cui abbiamo con la collaborazione con altri paesi paesi del nord Europa perché all'epoca a noi sembrava strano ma i paesi del nord Europa hanno questo problema a livelli molto forti se non altro per una ragione perché lì il tasso di alcolismo è molto elevato per cui gli uomini tornano a casa dopo aver bevuto e diventano violenti e scatenano la loro violenza abbiamo fatto i confronti con paesi che avevano modelli abbastanza avanzati di formazione delle forze dell'ordine e abbiamo creato un modello utile in Italia per cui oggi la polizia di stato e l'arma dei carabinieri hanno corsi di formazione a tutti i livelli cioè si parte dalla base e si arriva ai livelli dirigenziali che vengono reiterati ogni anno faccio l'esempio dell'arma dei carabinieri loro hanno diversi cicli ogni ciclo sono due settimane in cui gli ufficiali nella bellissima scuola di Velletri permangono due settimane di seguito e fanno un corso di formazione in cui ci siamo noi psicologi ci sono i rappresentanti ai centri antiviolenza ci sono loro colleghi che tecnicamente sanno come si raccoglie la denuncia questo perché perché una donna che va a denunciare non deve non sentirsi creduta non deve sentire sminuito quello che dice deve trovare un operatore preparato ad ascoltarla ad accoglierla e a metterla in collegamento con gli altri nodi della rete altrimenti il tutto finisce lì e la persona o se ne torna a casa o comunque decide di non andare avanti esatto esatto allora senta io vorrei farle una domanda alla quale tengo tantissimo veramente ed è questa dunque le donne spesso sono ancora più violente degli uomini nel linguaggio rivolto alle altre donne come lei prima ci ha detto spesso le vittime subiscono perché la mamma dice la suocera l'amica quindi partendo dal presupposto che la nostra è una cultura patriarcale e che è difficile sradicare i modelli che ha perpetuato nei secoli per gli uomini tanto quanto per le donne ma noi come possiamo oggi incoraggiare e stimolare le donne in un sentimento di empatia e sorellanza in antagonismo al più diffuso e tenace e caperatismo maschile come possiamo fare rete ed aiutarci e anche qui questa è una domanda molto importante perché è chiaro che se le donne per prime usano modalità aggressive nei confronti delle altre donne questo diciamo non solo ci colpisce perché psicologicamente sarebbe paradossale però avviene e avviene spesso l'idea fondamentale è quella di praticare la sensibilizzazione sempre a tutti i livelli perché io sono profondamente a tutti i livelli di età tutte le fasce di età perché io sono profondamente convinta che i cambiamenti culturali sono graduali e lenti non sono mai qualcosa di veloce per cui l'esposizione a certi modelli anche per i bambini piccoli è un'esposizione che poi fa sì che questi modelli incorporati vengano come dire riproposti all'interno dei comportamenti c'era una campagna sociale che ha girato molto in Francia impressionante da un punto di vista della vittimizzazione secondaria faceva vedere un bambino fuori dalla porta e la prima scena era dentro ad una stanza si vedeva un uomo che prendeva a calci una donna lo sbatteva per terra infieriva su di lei si voltava usciva dalla porta e se ne andava il bambino che era fuori dalla porta e quindi osservava la scena entrava sferrava a sua volta altri calci alla sua mamma si girava e se ne andava era un pugno nello stomaco questa campagna sociale perché faceva vedere la conseguenza violenta perché è sulla mente la conseguenza se io sono abituato a sentire che mia madre prende in giro le altre donne se non si vestono in una certa maniera o se invece si vestono in una certa maniera sono tutti aspetti che si incamerano si incamerano si incamerano e poi fanno parte dei nostri pensieri e i pensieri come avete detto voi all'inizio si trasformano in azioni quindi poi lo scrivo in un post poi lo pubblico su instagram poi lo pubblico su facebook o dovunque perché è diventato un mio pensiero ne sono stata esposta e quindi l'idea di sensibilizzare e formare invece al rispetto al rispetto per tutti non solo per le altre donne per tutti quello che manca moltissimo è l'idea di poter attraverso sensibilizzazione informazione e formazione creare una cultura del rispetto a volte assistiamo al fatto che in considerazione di certi eventi o comportamenti le persone scrivono delle cose pazzesche del tipo ti ucciderei ti uccido vengo ad uccidere i tuoi figli noi sappiamo di minacce terribili rivolte alle persone in rete sempre perché la rete poi scatena quelli che sono stati definiti leoni della tastiera ma lì vuol dire che veramente sta succedendo qualcosa di terribile allora io credo che tutto parta dalla cultura del rispetto rispetto per le donne quindi per le persone che sono donne come me rispetto per tutti per gli uomini per gli omosessuali cioè per la diversità per l'uguaglianza cioè per tutto ciò che riguarda la libera espressione dell'essere umano che non danneggi l'altro e questo è il cammino da fare nelle scuole viene dato poco spazio a questo adesso per fortuna abbiamo recuperato la cosiddetta educazione civica e poi in epoca lockdown purtroppo il tempo che gli si può dedicare è piuttosto circoscritto però invece dovrebbe essere come una materia fondamentale anzi più importante delle altre materie perché imparare ad essere e a vivere è addirittura più importante della conoscenza della storia o della matematica e manca manca parecchio bene grazie senta una domanda flash molto provocatoria diciamo gliela faccio uguale anche se probabilmente è un uomo che la fa non so allora la mia domanda è in base alla grande esperienza acquisita si hanno elementi a sostegno del fatto che uomini violenti e prevaricatori possano cambiare punto interrogativo secondo lei possono cambiare si possono cambiare possono cambiare tutta la criminologia oggi converge nel ritenere che la condotta violenta non è una condotta innata non è che noi nasciamo violenti abbiamo il gene della violenza e siamo condannati ad essere così fino alla morte biologica possono cambiare assolutamente possono cambiare non solo con quello che ho detto cioè tutta la parte relativa a formazione sensibilizzazione ma la persona che ha posto in essere la condotta violenta può essere riabilitata ci sono programmi di riabilitazione meravigliosi mi piace qui citare il collega criminologo Giulini che a Milano Bicocca ha un programma fatto benissimo dove gli uomini maltrattanti possano partecipare a delle sessioni si usano le tecniche dello scatenamento dell'empatia eccetera e possono essere riabilitati è un percorso ma può e deve essere fatto si può non essere violenti essere violenti è una scelta quando ci dicono ah ma quella persona è stata violenta perché non capacità di intendere di volere nelle azioni criminose le persone che le commettono per incapacità di intendere di volere sono un numero esiguo la maggior parte delle persone che commettono azioni violente e crimini sono persone che scelgono la strada della violenza e quindi si può fare in modo che non la scelgano bene bene d'accordo allora speriamo veramente che ci sia un'evoluzione in questo senso e delle scelte consapevoli verso la non violenza allora io mi dispiace molto come si dice passare oltre ma abbiamo veramente dei tempi molto stretti quindi a questo punto la ringrazio veramente tantissimo del suo preziosissimo contributo e visto che lei appunto come ci diceva non si può fermare perché ha un altro webinar a cui partecipare giusto cosa della quale mi dispiace moltissimo e quindi vi ringrazio di aver potuto rispondere adesso alle domande mi trattengo ancora un po' però a un certo punto mi dovrò scollegare grazie di nuovo grazie grazie a lei e intanto la saluto grazie professoressa Giannini da parte di tutto il Cug da parte di tutti i dipendenti Ispra e di tutti gli ospiti esterni che ci stanno seguendo in questo momento grazie a voi grazie davvero grazie grazie allora andiamo avanti con le considerazioni dunque a questo punto ecco vorrei fare una considerazione importante in questo webinar solo il 10% dei partecipanti sono uomini la violenza sulle donne è un problema anche degli uomini invece nell'attuale discorso pubblico sulla violenza questo non sembra emergere non c'è la consapevolezza della responsabilità fondamentale degli uomini nella prevenzione nella riduzione della violenza di genere basta pensare alle campagne contro la violenza di genere che di solito si limitano a raffigurare le donne come vittime passive ripiegate su se stesse e lasciano totalmente fuori dalla rappresentazione i responsabili della violenza ovvero gli uomini che la perpetrano al femminicidio vengono attribuite quasi sempre buone qualità buon padre bravo ragazzo imprenditore napoletano laureato alla Bocconi un vulcano di idee e progetti oppure viene messa in luce l'infelicità la donna invece viene spesso descritta come infedele o non accudente insomma una donna che non rispettava le aspettative sociali e quelle del compagno di essere una buona moglie il professor Gasparrini filosofo ed attivista antisessista affronta il tema del sessismo nei diversi libri di cui è autore tra questi ne cito due non sono sessista ma il sessismo nel linguaggio contemporaneo dove ci mostra quanto la lingua condizioni la realtà costruisca l'identità e rafforzi i preconcetti ed anche no del rifiuto e del suo essere un problema maschile professor Gasparrini gli uomini sono consapevoli del fatto che un complimento rivolto da uno sconosciuto ad una donna per esempio in un garage deserto può provocare veri momenti di terrore e smarrimento come pure il complimento più o meno spinto rivolto dal datore di lavoro alla dipendente gli uomini sono consapevoli che non sono complimenti né attenzioni lusinghiere ma vere e proprie violenze e in che misura la società italiana ne è consapevole prego professore grazie buongiorno a tutti e a tutte e anche io ringrazio Ispra per questa occasione continuano a essere troppo poche e quindi bisogna sempre essere molto grati a chi spende risorse ed energia per farle per farle accadere per farle capitare per rispondere alla domanda io se l'architetta sinistri mi dà il permesso vorrei usare invece l'esempio che lei ha raccontato la battuta che è arrivata la battuta la frase violenta che è arrivata a lei se lei me lo permette sì grazie perché se come dire nell'esempio del garage vuoto può essere abbastanza evidente quella circostanza che rende il tutto abbastanza inquietante invece lei ci racconta di uno scambio di battute tra colleghi ecco che cosa voleva dire appunto io spero l'ex collega dell'architetta sinistri con il cantiere non è posto per donne voleva dire traducendo la sua frase guarda che là comando io dobbiamo ricordarci che dietro una serie molto grande di espressioni ma anche di comportamenti come per esempio il fare i complimenti c'è in realtà una struttura di potere che viene trasmessa una immagine di potere che viene comunicata e questa immagine in genere significa appunto che le donne non dovrebbero essere in certi luoghi non dovrebbero assumersi certi compiti non dovrebbero gestire un certo potere questo perché perché dietro una frase come il cantiere non è posto per donna non c'è non si sta parlando di architettura e per certi versi non si sta parlando neanche di lavoro si sta comunicando una precisa idea di uomo e di donna che ha una storia antichissima e che per esempio vede l'uomo essere quello più capace di un pensiero razionale lucido oggettivo di essere più bravo a prendere decisioni a gestire il lavoro di altre persone mentre invece la donna si vorrebbe che per sua natura è più capace di gestire la parte emozionale la parte emotiva considerando anche che circa una settimana al mese perde un po' il controllo delle sue facoltà perché gli succede una cosa che come dire la natura l'ha fatta così e quindi è di umore cangiante e mutevole tutte queste storie non servono affatto a descrivere differenze tra uomini e donne perché poi la letteratura scientifica ne ha smentito questi supposti effetti ormai da tantissimo tempo servono però a ribadire una precisa struttura di potere sociale perché appunto la persona che ha apostrofato l'architetta sinistra in quel modo gli voleva semplicemente eliminare un concorrente di mezzo fare in modo che come dire ci fosse meno concorrenza per i cantieri la stragrande maggioranza di espressioni che ci scambiamo sottintendono una struttura di potere e noi dobbiamo essere più consapevoli di questo più responsabili di questo quello che si nasconde e quello che in realtà sono quelli che ancora continuiamo a chiamare complimenti tra uomini e donne bisogna avere la capacità critica di capire che molto spesso sono dei veri e propri abusi di potere perché è così diffuso il fatto che un genere si sente autorizzato senza aver richiesto il permesso di parlare del corpo di un altro genere e di pensare che lo può fare tutte le volte che vuole per strada in ufficio a casa con una persona sconosciuta con una persona che conosce da tanto tempo e parlare di come è fatto quel corpo di come è vestito quel corpo di come si muove quel corpo chi l'ha autorizzato nella stragrande maggioranza dei casi non l'ha autorizzato quell'altra persona c'è un genere che si sente in diritto di farlo perché non ci vede niente di male anzi perché è un complimento perché gli sta dicendo qualcosa di positivo è inutile sottolineare che in realtà dovremmo avere tutti e tutte il permesso dell'altra persona se vogliamo parlare del suo corpo perché il corpo è qualcosa di inviolabile intangibile intoccabile senza il permesso dell'altra ma questo tipo di espressione che per esempio che accade molto spesso e che noi non chiameremo mai violenza di genere perché la battuta che ci ha raccontato l'architetta anche lei stessa ha faticato a riconoscerla come una violenza perché non è che le manca qualche cosa non è che è poco intelligente o poco accorta ma perché c'è intorno una cultura intera che ti racconta che quella non è una violenza che quella è una frase che gli uomini dicono perché purtroppo noi ci scambiamo moltissime frasi così pesanti e non ci accorgiamo e complimenti che sono in realtà microviolenze e non ci accorgiamo di quanto questo si accumula dentro di noi come comportamenti violenti e ci induce o a subire cose che non dovremmo subire o a fare violenze che non dovremmo fare questi sono giorni ineguali gli uomini si sentono molti uomini si sentono messi in discussione colpevolizzati ingiustamente che si sentono attribuiti comportamenti scorretti che loro non farebbero mai non vorrebbero mai fare non hanno mai fatto riproducendo quella stessa retorica di cui abbiamo già parlato prima nella quale anche chi commette una violenza atroce è descritto come un bravissimo ragazzo un onesto lavoratore uno squisito vicino di casa e il problema è che non c'entra niente questi sono discorsi che non c'entrano affatto con il fenomeno sociale a quale abbiamo assistito dobbiamo imparare a vedere in questi fenomeni quello che in realtà sono un'altra espressione che agli uomini non piace affatto sentire è mascolinità tossica perché si fermano molto su questo concetto di mascolinità come se volesse attribuire loro qualcosa di brutto dal punto di vista biologico o genetico ma come ha detto anche la professoressa prima non è così come nessuno ha il gene dell'architettura per cui è naturalmente portato a comandare in un cantiere non esiste il gene della violenza non esiste il gene della gelosia sono comportamenti sociali che noi impariamo impariamo da un mondo culturale che ce li racconta impariamo dalle persone che abbiamo intorno che ce li fanno vedere che ce li mostrano impariamo da tutta una serie di linguaggi che ci scambiamo imparandoli poi li impariamo come positivi efficaci e quindi siamo portati a farli anche noi perché si usa quell'aggettivo tossico perché esattamente come le sostanze tossiche noi assimiliamo queste microviolenze nei comportamenti di tutti i giorni nei comportamenti abituali parlando mangiando sono nell'ambiente solo che questa tossicità non si scatina immediatamente non ha un rapporto di causa-effetto immediato esattamente come le sostanze tossiche noi le accumuliamo nel nostro corpo e però a un certo punto oltre a una certa soglia di tolleranza che è anche diversa per ciascuno e per ciascuna questa sostanza comincia a far sentire i suoi effetti nocivi allora certi uomini a un certo punto attuano un comportamento violento attuano un linguaggio violento in certe situazioni in certe circostanze o le donne sono lo fanno anche le donne ovviamente perché quelle idee di mascolinità ripeto non è una cosa biologica è un ruolo sociale e se quel ruolo sociale ti dà un potere ti dà un'efficacia beh lo fa anche una donna o lo fa una persona di qualunque altro genere orientamento perché se funziona lo fa anche lui non è una cosa che è attaccata alla tua biologia dall'altra parte accumulare quella tossicità significa anche che a un certo punto tu sei anche disposta a subire una serie di comportamenti senza riconoscerli come tali senza riconoscere che sono abusi che si stanno facendo nei tuoi confronti per esempio potremmo raccontare in questo modo quel ritardo che ha avuto l'architetta nel rendersi conto che aveva subito una violenza molto forte non è una cosa che riguarda le sue capacità intellettive e che magari come succede a molte altre donne è stata in un certo senso abituata a non dare importanza a quelle frasi e poi più avanti ha compreso che forza aveva che violenza aveva quanto era costringente è una cosa che possono raccontare tantissime donne che le è successo innumerevoli volte nella loro vita perché purtroppo i problemi sociali non sono affrontabili con un meccanismo diretto di rapporto causa-effetto magari magari fossero come i fenomeni non so della fisica della chimica l'acqua bolla a 100 gradi tutte le volte che noi scaldiamo l'acqua quella passa dallo stato liquido a stato gassoso a quella temperatura non ci possiamo mettere la mano sul focus c'è sempre così i fenomeni sociali non hanno questo meccanismo causale dietro è molto difficile risalire alle condizioni nelle quali poi accadono proprio perché sono sfumate differenti per ciascun ambiente culturale per la storia che ha ciascuno e ciascuna per l'influsso che hanno avuto certi linguaggi certi comportamenti le reti di relazione che hanno formato una persona ecco così si spiegano le difficoltà che ha raccontato anche la professoressa prima che non si tratta magari ci fosse il metodo che funziona il meccanismo giusto si tratta di problemi sociali che vanno affrontati socialmente il complimento non si riconosce come una cosa nociva perché ti è stato raccontato a me uomo da quando sono ragazzino che è una cosa positiva e tu prima di convincerti che tutte le volte che hai fatto quello che si chiama complimento a una donna hai sbagliato hai fatto violenza beh ce ne vuole non è facilissimo perché significa che io devo essere in grado di mettere in questione la mia identità di genere e non è una cosa semplice ma è una cosa semplice per nessuno e per nessuna perché la prima cosa che succede ed è il motivo per cui ho intitolato il mio intervento colpa e responsabilità che mi sento in colpa che arriva al senso di colpa ma anche questo è un meccanismo sociale che ho imparato perché io io Lorenzo che non c'entro nulla mi devo interessare e mi devo sentire responsabile delle parole che ha usato quel tizio con l'architetta con l'architetta sinistri non per il per certi versi banale pensiero che siccome è una cosa violenta è una cosa ingiusta allora io devo difendere qualcuno che subisce un'ingiustizia questo arriva dopo il problema è che quell'uomo con quella sua battuta con quel suo comportamento ha diffuso una certa idea di uomo e io devo ragionare effettivamente se quella idea a me piace o no se io la voglio o no io credo davvero in questa idea di uomo sempre lucido sempre deciso sempre oggettivo che sa prendere responsabilità che si che si accolla ai lavori più pesanti i lavori più gravosi in base a una supposta superiorità fisica del suo organismo mi sta bene questa idea perché è quella che è stata diffusa essere responsabile della propria identità di genere significa questo ma la accetto davvero questa idea mi sta bene l'ho accettata esplicitamente quando sono cresciuto e mi è stata raccontata per esempio mi è stato raccontato che ci sono le cose da maschio le cose da femmina le cose che fanno gli uomini le cose che fanno la donna ero in grado di capirlo ero in grado di accettarlo accettavo consapevolmente di dividere il mondo in rosa e celeste e anche sulla storia dei colori ce ne avremmo da raccontare ma vabbè non possiamo fare tutto stamattina di dividere il mondo in quel modo questa consapevolezza va data il prima possibile a bambini e bambine ragazzi e ragazze perché sono in grado di maneggiarla ci sono gli strumenti ci sono i linguaggi ci sono i giochi adatti esiste questo tipo di educazione ma dobbiamo volerlo tutti e tutte altrimenti il risultato è che noi avremo uomini e donne che tra loro attuano dinamiche spesso violente si scambiano fortissimi abusi e contro abusi di potere e non se ne rendono conto perché poi questa violenza accumulata sfogherà da qualche altra parte il fatto che come diceva giustamente la professoressa non conta il numero di femminicidi che accadono 150 10 300 non conta che vuol dire non che non hanno importanza ovviamente con le storie ma quando devi affrontare un problema sociale te ne basta uno di uomo che quest'anno ha deciso di uccidere la sua compagna in quanto donna perché ha preso delle decisioni che non stanno bene alla sua idea di uomo o di donna perché se per quell'uno che l'ha fatto ce ne saranno 100 che invece di uccidere solamente picchiano e per ognuno che picchia ce ne saranno 100 che solamente minacciano a parole quel fenomeno sociale è sempre la punta di un iceberg è un'immagine che si usa spesso in questi argomenti è sempre la piccola parte visibile di un'enorme montagna che sta sotto il livello dell'acqua ma poi ecco la montagna che fa affondare le navi non è la la piccola parte visibile il complimento così come tutta un'altra serie di strategie relazionali che mettono in atto uomini e donne viene da una tradizione molto preesistente a noi che però rimane per esempio testimoniata dal linguaggio ecco perché è così importante lavorare sulle parole lavorare sul linguaggio noi e finisco la risposta siamo ancora come dire un po' prigionieri di un'immagine strumentale del linguaggio pensiamo che il linguaggio sia semplicemente mettere etichette sulle cose in modo che io mi possa riferire agli oggetti e poi imparare che posso parlare delle cose passate o delle cose future anche se non le vedo sotto i miei occhi perché ho degli strumenti che mi consentono di fare questo che quindi noi nella nostra mente nel nostro cuore abbiamo tutto un serbatoio di emozioni sentimenti di sensazioni poi troviamo la parola e la diciamo in realtà funziona esattamente al contrario noi siamo capaci di dare voce a ciò che sentiamo a ciò che proviamo perché abbiamo imparato prima come si chiama quel sentimento quell'emozione quel fenomeno e dopo che abbiamo imparato la parola finalmente gli diamo il nome giusto il motivo per cui a tanti uomini e anche a tante donne danno fastidio i femminili professionali per cui sembra che non ce la fa non ci riescono a dire architetta o ingegnera non è una questione di cacofonia non c'entra nulla il rumore brutto delle parole perché come sottolinea una mia collega e conoscente Vera Gheno con le cistectomia è veramente una gran brutta parola ma nessuno si è mai sognato di opporsi a quella perché è brutta e suona male no ci opponiamo a sindaca perché generalmente quei nomi significano un fenomeno nuovo che non abbiamo mai visto una donna in una posizione di potere una donna che va in cantiere e comanda una donna che ha una è al vertice di una girarchia che noi non siamo abituati a vedere è questa la cosa a cui non siamo abituati no il suono e cioè significa che noi dobbiamo un po' riconfigurare la nostra idea di mondo perché in una certa posizione come è il suo diritto ci sta qualcuna che noi non siamo abituati a vedere questo è un problema sociale perché non siamo abituati a vedercela e chi ci ha detto chi ci ha raccontato che non è quello il posto suo che il cantiere non è un posto per donne questa è una critica alla nostra identità di genere perché io sono convinto di tutte queste assurdità che riguardano uomini e donne e pur se non mi ricordo che è arrivato qualcuno e me le ha dette una dietro l'altra e me le ha insegnate così perché purtroppo c'è intorno un mondo culturale quello che chiamiamo patriarcato che ce le racconta così e noi le assimiliamo continuamente nei film nei libri nei rapporti appunto nell'uso della lingua e stare a ragionare sulla colpa spesso non è neanche troppo utile perché non serve a nessuno non identifica l'origine di questo problema culturale proprio perché stare a inseguire chi ha detto una certa cosa chi ha fatto una certa cosa beh certo dal punto di vista della giustizia è giusto che si faccia ma quando la cosa diventa un problema sociale condiviso dobbiamo interrogarci sulle nostre capacità critiche riguardo le nostre identità sulla nostra capacità di confrontarci di parlare insieme uomini e donne e di decidere guarda questa cosa forse è meglio che non la usiamo più oppure no quest'altra è il caso di usarla perché ci fa funzionare meglio ci fa agire meglio toglie tutta una serie di problemi che esistono tra noi quando vado in azienda a parlare di questi problemi se anche come dire nessuno si vuole troppo spendere in questioni di genere in problemi di femminismi è vera una cosa quando dai degli strumenti quando sveli certe relazioni di potere che sono in atto anche nella vita lavorativa nella vita d'ufficio le smascheri li fai finire l'azienda lavora meglio quindi se proprio non vi interessa la questione di genere almeno prendiamo atto di questo che togliere certe relazioni di potere ingiuste e indebite nelle relazioni personali e per esempio nelle relazioni sul posto di lavoro fa lavorare tutti e tutte molto meglio ok allora benissimo veramente un'analisi precisa della situazione del momento e allora a questo punto però appunto come diceva lei c'è una collega Claudia Palla che fa una domanda che tra le righe diciamo lei ha già affrontato e penso che condivida e Claudia dice credo che l'educazione sessuale a scuola farebbe la differenza almeno per la crescita delle generazioni future abbiamo già visto passare troppe generazioni maleducate su questo fronte adesso io amplierei il discorso dell'educazione sessuale anche all'educazione civica come diceva prima la professoressa Giannini però insomma immagino che questo sia un passaggio fondamentale nelle scuole condivide? condivido soprattutto perché come in fondo ha suggerito anche lei al di là dell'argomento che si vuole affrontare più direttamente quello sessuale oppure quello delle relazioni quello delle emozioni quello della vita di cittadini e cittadine è importante il tempo nel quale si fa questa azione cioè il fatto che questa cosa accada a scuola quando uno sta ancora formando e costruendo non solo la propria personalità ma anche la propria identità di genere capire fin da subito che certe distinzioni in realtà tra maschile e femminile roba da uomini roba da donne sono solo strumenti di potere ti fa comprendere che si può essere benissimo uomini etero bianchi e maschi senza bisogno di usare quegli strumenti di potere senza essere oppressivi senza essere violenti senza essere non sono ingredienti necessari alla tua identità maschile farlo comprendere a chi ha 40 50 60 anni è molto più difficile perché ovviamente c'è tutta una vita vissuta su quegli elementi e anche se come mi succede molto spesso parlo con uomini che sono molto delusi e frustrati perché hanno visto che quel tipo di maschilità in realtà non li ha portati a nulla poi non ha non ha dato quello che prometteva non ha funzionato in maniera efficace come dicevano però è molto difficile cambiare a quel punto perché si tratta veramente di decostruire un mondo intero una vita intera vissuta cominciare prima cominciare a scuola significa dare degli strumenti con i quali noi formiamo persone molto più consapevoli anche di questi problemi prima che diventino problemi sociali ecco perché è importante agire prima perché io in questo modo elimino quelle condizioni elimino quelle quelle tossicità se vogliamo usare il linguaggio che abbiamo usato prima che poi diventeranno un problema sociale che poi sfogheranno in azione come ha detto la professoressa prima per i quali poi bisogna mettere in campo una rete molto complessa giustamente una rete molto complessa di interazioni tra attori diversi per rimediare se io riesco ad agire prima evito proprio che certe cose in un certo senso accadano non riuscirò mai a evitarle del tutto non ci facciamo illusioni però sicuramente ne posso ridurre il numero posso aumentare la consapevolezza e la responsabilità su queste decisioni in modo che tra loro ragazzi e ragazze per esempio comincino a parlare molto presto di questi problemi a darsi l'un l'altro gruppo strumenti diversi per affrontare quei momenti questo è sicuramente importantissimo certo sento un'ultima domanda dunque abbiamo capito che comunque il problema diciamo della violenza del sessismo arriva da molto lontano dal patriarcato proprio e nel tempo immagino e mi auguro soprattutto c'è stata un'evoluzione della cultura patriarcale nella storia ma io le chiedo ma il patriarcato si è evoluto realmente o ha soltanto modificato la sua forma perché non vorrei che come lei appunto diceva magari adesso si è più sottili si dice magari l'architetta in modo molto più soft il cantiere non è un posto per donne quando fondamentalmente invece poi la struttura la base della violenza è sempre quella e sempre con lo stesso impatto quindi lei che cosa ne pensa di questa di questa idea diciamo allora una cosa è sicura su una cosa possiamo essere sicuri i sistemi di potere si trasformano non passano da un momento all'altro le leggi per esempio che aiutano a combattere la violenza di genere sono indubbiamente molto importanti ma non fanno accadere i cambiamenti culturali immediatamente proprio perché i sistemi di potere tendono a trasformarsi vi faccio un esempio di una cosa che mi capita di constatare molto spesso nelle scuole quando andate a parlare nelle scuole i ragazzi che hanno adesso dai 15 16 ai 18 19 anni sembra che certi problemi sulla propria identità di genere sul proprio orientamento sessuale l'hanno completamente sorpassati non gli importa più niente cosa sei cosa non sei cosa ti piace cosa non ti piace non gli importa più niente però per esempio molto stranamente almeno ai miei occhi in molti e in molte è ancora molto forte l'idea che la realtà di un sentimento affettivo la sussistenza di una voglia di stare insieme della forza di una relazione sia data dal sentimento di possesso di gelosia dal divieto che l'uno fa all'altra di andare in certi posti o di vestirsi in un certo modo per molti per molte questa è la prova della forza di un sentimento e tu ti chiedi ma come è possibile nel 2020 ancora stiamo ancorati a questa idea una persona così giovane è ancora ancorata a questa idea di possesso i sistemi di potere si trasformano e quindi passano da generazione in generazione in una maniera che è molto difficile prevedere l'importante come dicevamo prima è innanzitutto stare lì quando questa cosa accade dando degli strumenti dando delle informazioni facendo capire ai ragazzi che guardano non c'entra niente non è che uno deve essere per forza brusco o mostrare voglia di possederti per la sincerità dei suoi sentimenti non c'entra nulla e soprattutto bisogna capire che è vero che il patriarcato come sistema di potere riceve come dire dei duri colpi da almeno 200 anni insomma da quando le suffragette giustamente andavano in piazza a dire no vogliamo votare anche noi le cose sono cominciate ma forse sono cominciate anche prima nell'illuminismo nel quale una donna a un certo punto ha scritto la dichiarazione universale dei diritti della donna e della cittadina dimostrando che in quell'altra gli uomini si hanno scordati qualcosetta se vogliamo il patriarcato ha cominciato da lì a subire dei duri colpi però appunto nel tempo si è trasformato per esempio appoggiandosi a strutture sociali legate all'economia legate al capitalismo che molto spesso hanno offerto altri strumenti per perpetuare certi poteri allora noi ci accorgiamo che esiste un fenomeno sociale come il soffitto di cristallo per cui le donne a un certo punto non so della loro carriera non si capisce bene perché non vanno oltre un certo grado di potere un certo esercizio di potere cosa constatata oppure come esiste il soffitto di cristallo esiste un altro fenomeno chiamato il precipizio di cristallo per cui quando un'azienda è in difficoltà quando ci sono delle contingenze economiche non molto favorevoli o delle contingenze politiche non molto favorevoli si passa al comando una donna perché le donne nelle situazioni di crisi sono più brave perché le donne oppure perché forse se come dire la reputazione di una donna viene rovinata da un evento che non si può controllare chi se ne importa diciamo così conta di meno questi fenomeni sono trasformazione di quello stesso potere che una volta era banalmente la struttura del capofamiglia che decideva tutto la società si evolve la società si complica con lo stesso potere passa ad altre strutture conoscere a fondo questi argomenti esserne consapevoli parlarne molto spesso come facciamo oggi ci aiuta a tenere sveglia la nostra attenzione su questi meccanismi a intercettarli e a chiamarli col nome giusto laddove succedono non sono battute è un esercizio di potere non è solo una parola è un preciso indirizzo che io voglio dare a una persona tutti noi riflettiamo molto poco per tornare a quella questione del linguaggio che ha affrontato anche la professoressa prima riflettiamo molto poco su un fenomeno assolutamente quotidiano banale che sono per esempio gli insulti che usiamo ragionare sui propri insulti a parte che è abbastanza divertente passare in rassegna le parolacce che si conoscono ma ci aiuta a renderci conto di una cosa molto allarmante la stragrande maggioranza degli insulti delle parolacce della nostra lingua riguardano il corpo delle donne le abitudini delle donne quello che pensano le donne quello che fanno le donne beh ci sarà un motivo ci sarà un motivo per cui negli anni nei decenni nei secoli si è stratificata nella nostra lingua la donna come paradigma negativo come esempio sbagliato è segno che c'è una forza sociale che spinge la cultura popolare la cultura diffusa in quella direzione ed è curioso che gli uomini non riflettano sul fatto che anche la stragrande maggioranza degli insulti che si scambiano tra loro in realtà non riguarda loro riguarda la donna che hanno vicino le donne della loro vita adesso mi spiace usare un po' di turpiloquio ma insomma spero che si capisca quando un uomo dice a quell'altro che ha delle cose c'è due cose in testa in realtà non sta parlando di lui sta parlando del suo potere gli sta dicendo tu non sei stato in grado di controllare la tua donna è che mi sembra un racconto sociale piuttosto importante in realtà non sta insultando lui sta insultando il suo tipo di potere gli sta dicendo che è poco uomo non per qualcosa che riguarda lui in realtà ma che riguarda la sua capacità sociale di essere e di controllare la donna della sua vita o le donne della sua vita quando un uomo dice all'altro figlio di sta dicendo una cosa piuttosto complessa socialmente gli sta gli sta dicendo tu non sai chi è tuo padre che è un insulto molto complesso ma in realtà si spiega molto facilmente perché se il potere passa attraverso una linea patriarcale una linea paterna quando io ti dico che tu non sai chi è tuo padre ti sta dicendo tu hai meno potere di me tu sei meno uomo di me io posso come dire ricostruire la storia del potere che mi arriva da mio padre perché sono a conoscenza di rapporti solidi controllati e posso dirti mio padre mio nonno mio bisnonno chi erano tu siccome nessuno controllava le abitudini sessuali di tua madre tu non sai chi è tuo padre perché questo è un insulto perché ha un peso così determinante nella nostra società quella figura quel potere che si trasmette e soprattutto perché riflettiamo molto poco su queste cose che ci diciamo a volte con una certa leggerezza che invece sono pesantissime si portano appresso una storia molto grave molto dura in termini di rapporti di potere e che generalmente a qualcuno prima o poi fanno male come dicevamo prima come una sostanza tossica si va in giro a cento persone non fa niente alla centunesima la mazza allora le pongo una domanda dell'architetta che trovo interessante perché ne ho sentito anche parlare di questa cosa allora lei chiede cosa pensa della giornata internazionale dell'uomo che si celebra il 19 novembre quanto è importante dedicare attenzione anche agli uomini nelle questioni di genere in fondo anche gli uomini per certi aspetti sono vittime del patriarcato probabilmente l'architetta mi fa questa domanda perché sa già qual è la risposta forse l'ha letta da una cosa che ho scritto ah meno male ok perfetto allora sono contento perché vuol dire che sta nelle cose emerge in quello che viene fuori che anche gli uomini sono vittime è una cosa che io dico e scrivo ovunque e quindi ne sono convinti è bellissimo anch'io però bisogna stare attenti che non si tratta di fare paragoni cioè non sto dicendo anche gli uomini sono vittime per dire ah che noi soffriamo come le donne nella misura quella violenza colpisce gli uomini nella misura in cui colpisce le donne no colpisce in maniera completamente diversa innanzitutto ne ammazza di meno direttamente come violenza di genere ma soprattutto si esercita con strumenti molto diversi che se noi non impariamo a conoscere a vedere non c'è appunto capiamo subito che non si può fare alcun paragone ho molta difficoltà a celebrare una giornata per i diritti dell'uomo perché ho la netta impressione che fatto salvo il 25 novembre tutte le altre 364 giorni siano come dire celebrazioni o libertà che ha l'uomo perché quello che dobbiamo capire non è che cioè se ci serve una giornata a noi uomini per renderci conto che ci sono delle costrizioni che noi subiamo nella nostra identità in virtù di un sistema di potere che noi stessi abbiamo costruito perché poi è inutile che ce lo raccontiamo le cose che non ci piacciono del sistema di potere non è che l'hanno inventato le donne perché le donne ne hanno praticamente quasi mai comandato quindi siamo stati noi uomini a costruirla allora siamo noi che dobbiamo farci una domanda su questa struttura se davvero ci piace se davvero è efficace se davvero funziona se ci dà quello che ha promesso e questa cosa andrebbe fatta tutti i giorni dell'anno quindi se serve una giornata per riflettere su questo vabbè magari però secondo me dobbiamo un po' darci una mossa diciamo la giornata potrebbe essere domani e poi dopo domani e poi dopo domani ancora perché sono cose che devono entrare nella nostra abitudine come dicevo prima il numero di incontri e di riflessioni su questi temi deve diventare più frequente soprattutto per questo più che un fenomeno da sensibilizzare è proprio un'abitudine da prendere quella di riflettere sul fatto che anche noi uomini siamo pesantemente condizionati che anche noi uomini ci letteralmente ci diamo da soli delle sofferenze perché quando ci raccontiamo che l'uomo deve crescere insensibile non deve far trasparire le emozioni non deve piangere non deve lamentarsi deve accettare le cose che gli capitano perché lui deve assumersi delle responsabilità fare i lavori più pesanti deve morire in guerra ce lo scordiamo che siamo venuti da una civiltà che ci ha raccontato per millenni che è giusto che l'uomo muoia in guerra questo è il nostro passato questa è la nostra identità di genere è fatta anche di questo la nostra letteratura celebra ancora tantissimi uomini eroi perché si sono fatti ammazzare allora la domanda è ci piace questo? ci piace davvero? pensiamo che sia qualcosa di effettivamente utile ancora? ovviamente non sto parlando del come dire dell'eroe civile che si sacrifica per gli altri sto parlando del fatto che qualcuno è convinto come ci racconta per esempio un testo molto importante nella nostra cultura tu lavorerai con sudore della fronte e tu partorirai con gran dolore io non sto mettendo in discussione la fede di nessuno e di nessuna che sia chiaro ma se quello è un racconto culturale che ci portiamo presso da millenni non possiamo raccontarci che non ha avuto un'enorme importanza in tutta una serie di divisioni di discriminazioni che adesso agiscono nella nostra società allora dobbiamo essere capaci tutti e tutte di separare questi elementi e di dirci questo racconto mi sa che non funziona più questo racconto in realtà porta danno a tutti e tutte cambiamolo perché questo si può fare i dati culturali si cambiano tutti qualcuno ha visto che chiedeva qual è la difficoltà di cambiare un dato un racconto culturale è una difficoltà enorme ma basta guardarsi un po' in giro nel resto del mondo per capire che nessuna difficoltà è insuperabile quello che da noi ci sembrano insuperabili differenze tra un genere e l'altro in un altro paese funziona assolutamente al contrario in Italia gira l'idea che le donne siano più brave con la lingua e il linguaggio nelle materie umanistiche e gli uomini siano più bravi in quelle scientifiche tecniche logiche è una cosa che fai 600 chilometri e ti accorgi che in un altro paese i risultati scolastici e le inchieste danno il risultato completamente opposto di nuovo la genetica e la biologia non c'entrano nulla sono abitudini culturali che cambiano anche geograficamente da un posto all'altro renderci conto di questo ci aiuterà molto a capire che sono problemi superabili ma serve una volontà comune quella sicuramente è difficile da raccogliere bene grazie professor Gasparrini io vorrei passare oltre anche se le sue argomentazioni sono interessantissime magari se avanza del tempo possiamo riprendere delle domande allora passiamo quindi ad un altro aspetto della violenza la comunicazione dei mass media infatti anche il modo di descrivere i femminicidi dei mass media rappresenta un importante veicolo per informare e dare visibilità alla violenza di genere oppure deformarla purtroppo i mass media sono lo specchio di tutti i preconcetti e i pregiudizi ancora presenti nella società la carta stampata e la televisione continuano a raccontare di delitti passionali commessi per gelosia o per troppo amore dando quasi delle giustificazioni all'omicida se una donna poi subisce violenza sessuale se ne analizzano subito i comportamenti lo stile di vita l'aspetto fisico o le abitudini sessuali il 25 novembre del 2017 l'associazione giurta giornaliste la commissione pari opportunità della federazione nazionale stampa italiana usigrai e altre associazioni nonché moltissime giornaliste e giornalisti hanno sottoscritto il manifesto delle giornaliste e dei giornalisti per il rispetto e la parità di genere nell'informazione contro ogni forma di violenza e discriminazione attraverso parole e immagini impegnandosi per un'informazione attenta corretta e consapevole del fenomeno della violenza di genere e delle sue implicazioni sociali culturali e giuridiche di nuovo il 17 novembre del 2017 alla presenza della presidente Laura Boldrini è stato illustrato in Montecitorio il manuale Stop violenza le parole per dirlo edito da Giulia giornaliste sul linguaggio dei media nella cronaca della violenza contro le donne la dottoressa Garambuà è la presidente dell'associazione Giulia giornaliste è giornalista e docente ai corsi di aggiornamento professionale per l'ordine dei giornalisti in particolare sul linguaggio della violenza dottoressa Garambuà quali cambiamenti di linguaggio sono necessari se si vuole che non si perpetuino quegli stereotipi culturali di cui si nutre la violenza di genere che cosa non funziona nel binomio informazione e violenza di genere prego dottoressa grazie buongiorno a tutte e a tutti io incomincio a chiacchierare cercando nel frattempo di aprire le mie slide perché credo che sia più utile se questo ragionamento lo conduco facendo vedere si vedranno si vedono si vedono si vedono si accompagnando la lettura dei giornali insomma ragionando insieme su cosa sono i giornali io ho bisogno di due piccole le potrebbe mettere in modalità presentazione le posso mettere in modalità presentazione questa speriamo di sì quello il secondo la seconda icona da sinistra mi perdoni eccola grazie sono arrivati due brevissime cose una ho apprezzato ma davvero molto gli interventi che ho sentito ho apprezzato molto il filosofo Gasparrini subito devo dire che mi sono sentita in quel precipizio di cristallo infatti mi sono messa a ridere tra me io ho sempre pensato che fosse un incidente della storia quando ho avuto ruoli pesanti nella mia categoria non l'avevo mai battezzato precipizio di cristallo ma è così io lo chiamavo incidente nella storia perché tra l'altro mi è capitato più volte ma in particolare io sono stata a un certo punto eletta segretaria del sindacato dei giornalisti e delle giornaliste del Lazio e del Molise allora eravamo Lazio e Molise benissimo onestamente non mi ero resa conto immediatamente di che cosa era successo ma andando poi alle riunioni ero nella giunta federale beh c'è voluto niente a rendermi conto che io ero l'unica che era vestita di rosso di giallo di un colore intorno a me erano davvero tutti grigi al massimo blu erano solo uomini ora sono azzurra anch'io ma è casuale insomma e dopo di me di nuovo uomini per questo a un certo punto ma incidente nella storia in realtà no ha ragione ha ragione il filosofo precipizio di cristallo in quel momento c'era una crisi abbiamo preso quel sindacato perché c'è stato un gruppo di donne notevole che ha portato un mucchio di idee ma le idee le più diverse anche di identificazione immediata cioè facevamo le manifestazioni in quel momento addirittura erano manifestazioni contro il governo portandoci degli ombrelli che raccontavano chi eravamo cioè c'è un modo un approccio un punto di vista delle donne sempre che è un altro ma appunto mi perdoni scusi sono Silvia intervengo dovrebbe scostare le cuffiette dalla collana prendiamo la collana facciamo prima grazie grazie mille così è meglio scusate sì grazie così è meglio porto le cuffiette come collana questo solo per ragionare su quello e permettete anche a me di dire una parola sull'installazione che è stata fatta perché la mia prima emozione dico uso questo termine è stato il fatto che a me è venuta in mente la sala delle donne di Montecitorio ora spero che molti l'abbiano visitata è una sala che aveva voluto l'allora presidente Boldrini in cui ci sono i quadri le fotografie di tutte le donne che in politica hanno contato e si arriva fino ai vertici di questo paese dove al posto del presidente della Repubblica al posto del presidente del Consiglio dei Ministri c'è uno specchio cosicché soprattutto le ragazze le più giovani che vanno in visita alla mostra delle prime che hanno avuto ruoli importanti nel nostro paese bene anziché trovare una fotografia perché donne lì non ci sono mai state vedono se stesse perché prima o poi qualcuna ci dovrà essere il confronto con l'installazione che avete realizzato bravissima architetta è davvero è davvero un colpo allo stomaco perché sicuramente là è ancora un libro dei sogni che speriamo di riempire rapidamente ma qua è una realtà di tutti i giorni vado sul mio terreno rispetto agli impegni per una lettura critica della narrazione sui media della violenza contro le donne una lettura critica si parlava di Giulia Giulia è un bel nome di donna per dire che siamo giornaliste unite libere e autonome siamo tante siamo da Bolzano al tacco d'Italia siamo precarie libero professioniste direttrici io sono molto contenta che la direttrice di Radio Rai Simona Sala che è una Giulia l'altro giorno abbia presentato il suo progetto il manifesto contro i convegni di tutti i maschi contro il fatto che in televisione nei talk show vengono invitati gli uomini che gli esperti chiamati per essere intervistati siano sempre regolarmente esperti uomini quando in Italia abbiamo fior fiore di eccellenze femminili e tra l'altro come Giulia ci sforziamo di divulgarle abbiamo un progetto che si chiama Cento esperte che è piaciuto all'Europa che abbiamo esportato in Europa e che in Italia fatica ad andare avanti ma dove raccogliamo le eccellenze femminili per dire ai nostri giornali chiamate loro ora noi si siamo messe insieme perché i nostri giornali non ci piacciono neanche quando facciamo le direttrici non ci piacciono perché di direttrici noi ne abbiamo tre abbiamo la direttrice della radio la direttrice del manifesto la direttrice della nazione di Firenze non ce ne sono altre ci sono nei settimanali femminili ci sono in giornali femministi ma nelle grandi testate nazionali non esistono non ci sono direttrici più nella tv generalista della RAI e questo devo dire va contro tutte le leggi e le regole ed è su questo ci siamo mosse con la commissione di vigilanza sulla RAI ci siamo mosse con ricorsi non ci sono e non possiamo farci niente giornalisti nei telegiornali media ce ne erano due non ci sono giornaliste al telegiornale di Sky eppure c'era una donna non ci sono giornaliste alla 7 non ci sono giornaliste a dirigere il Corriere la Repubblica la stampa e viene in campo questo significa avere un punto di vista vuol dire che il punto di vista delle donne il punto di vista delle giornaliste fatica molto a passare perché nonostante siamo praticamente metà delle redazioni non abbiamo ruoli dirigenti quindi non facciamo il giornale come si fa allora? si fa rete e io volevo partire appunto con le buone notizie poi passo alle pesce le buone notizie partono male partono col fatto che il Sole 24 Ore il giornale che sicuramente sarà sulle vostre scrivanie giornale paludato anche un po' imbalsamato molto rigido ha raccontato di quel orrendo stupro fatto da un imprenditore a Milano drogata la ragazza diciottenne una guardia del corpo fuori dalla stanza a controllare che nessuno disturbasse un avvenimento disgustoso ebbene il Sole 24 Ore nell'articolo inizia con un vulcano di idee e progetti che per il momento è stato spento su questo siamo saltate sulla sedia noi sono saltate sulla sedia le associazioni donne e le associazioni femminili e femministi ma sono saltate sulla sedia soprattutto per prima le colleghe del Sole 24 Ore e sono riuscite a molto dentro il Sole 24 Ore c'è questa rubrica L.I.O.P. che si occupa in particolare di questioni femminili e coordinate dentro L.I.O.P. colleghe e colleghi devo dire hanno fatto sentire forte la loro voce dentro il giornale questo è il comunicato che hanno pubblicato sulle pagine social in cui denunciano quello che è successo nel loro giornale e il giorno dopo il Sole 24 Ore si è scusato le scuse sono una cosa preziosa preziosa e rara io ho avuto occasione lunedì mattina di avere un incontro con il rettore dell'università di Bari un'altra persona che si è scusata lui diceva ma non ho capito il clamore che c'è stato per le mie scuse per Bacco sì perché abbiamo riscoperto il valore delle scuse quando si sbaglia si sia un'istituzione come un'università si sia un vecchio giornale rigido come il Sole 24 Ore si si scusa è un elemento di crescita collettiva e di democrazia ora le scuse ben accette del Sole 24 Ore c'è chi ha criticato poteva dire di più per Bacco no è una conquista fanno il paio con una fanno il paio fanno racconta vanno insieme a un altro a un'altra cosa importante che è avvenuta anche questo è un fatto molto recente di cronaca molti se lo ricorderanno quel padre che ha ucciso i figli gemelli e poi si è suicidato il mattino tutto ciò succedeva all'Ecco il mattino di Napoli dà la notizia online e scrive il dramma dei papà separati il dramma dei papà separati c'è un assassino diventa il dramma dei papà separati a insorgere questa volta sono state le lettori e i lettrici il mattino si è immediatamente reso conto dell'errore e ha cambiato l'occhiello l'occhiello lo vedete è quella righina sopra il titolo in questo caso anche sopra la foto e titola la follia omicida ci risiamo la follia ma da quando il quaco il signore era considerato un folle perché un pazzo perché lo dicevate trovare una giustificazione a chi sta ammazzando non è follia il mattino la taglia corta fa un occhiello assolutamente a nodino che non vuol dire assolutamente nulla risveglio shock ma il giorno dopo arrivano le scuse di nuovo e questa volta sono state le lettrici e i lettori a creare l'occasione perché il giornale si scusasse ve lo dico e ve lo ripeto è importante perché significa eh significa recuperare sarà in lockdown sarà anche questo eh recuperare un rapporto diretto con i media significa anche riuscire ad avere una lettura critica nel momento in cui si eh legge un giornale è successo qualche tempo fa con la provincia di Varese qui c'era una direttrice eh il titolo è senza senso è riuscita a distruggermi la vita cioè lui la ammazza e lei gli ha distrutto la vita è abbastanza curioso il giorno dopo la 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 collega si scusa e ancora uno ma purtroppo la collezione è finita l'agenzia l'agenzia italia qui non è violenza o forse vado dietro a quanto ci raccontava il nostro filosofo sì nel senso che questa è l'agenzia italia l'agenzia italia significa che arriva su tutte le scrivanie di tutte le giornaliste e i giornalisti eh purtroppo molto spesso eh il taglia in colla produce che eh quello che scrivono colleghi d'agenzia finisce immediatamente sui giornali o direttamente sui social ehm il caso anche questo forse ricorderete ehm di un paio d'anni fa è quando eh Giudizio Argentini eh giovanissima europarlamentare fu l'unica ad avere un eh a fare un discorso a Bruxelles così forte così vigoroso così passionale da mettere in difficoltà quello che nessuno riusciva mai a mettere in difficoltà Orban e che fa l'agenzia Italia anziché mettere l'accento sulla potenza di questo intervento e se volete sulla sorpresa che una o un in questo caso non era non era il sesso a farla padrona anche se il fatto che fosse una donna è per noi particolarmente rilevante era riuscita a trovare le parole e la struttura di un discorso che vecchi navigati politici non riuscivano a mettere in piedi bene l'agenzia Italia invece racconta com'era pettinata e com'era vestita è stato che questo articolo è andato sull'edizione online dell'agenzia Italia e l'hanno visto tutti sono state le lettrici e i lettori dell'agenzia Italia a insorgere ed ecco le scuse aggiornamento del 13 settembre 2018 ore 17 una precedente versione di questo articolo conteneva una frase che descriveva l'abbigliamento e l'acconciatura dell'eurodeputata olandese Judith Sargentini Sargentini perché è di origine italiana la frase ha urtato la sensibilità di alcuni lettori che ci hanno scritto per questo abbiamo deciso di rimuoverla evviva non va sempre così molte volte siamo noi a dover intervenire e a dover intervenire anche in modo abbastanza brutale come abbiamo dovuto fare con il collega Bruno Vespa che abbiamo denunciato al consiglio di disciplina dell'ordine dei giornalisti per quella intervista insopportabile che ha fatto ad una sopravvissuta dicendole se avesse voluto ucciderla l'avrebbe fatto ora la violenza che può avere un articolo e la violenza assoluta che può avere la televisione è quello di rivittimizzare è una parola orrenda rendere vittima di nuovo è una cosa gravissima però chi già è sopravvissuta o non è sopravvissuta alla violenza di un uomo non non si possono lasciar passare queste cose perché perché lo diciamo perché noi amiamo profondamente il nostro mestiere e oltre ad amarlo profondamente professione scusate è una professione io preferisco chiamarlo mestiere c'è chi lo chiama mestieraccio forse è anche vero ci si sporca le mani l'informazione è nella prima parte della costituzione ma non è un regalo fatto alle giornaliste e ai giornalisti è uno degli elementi cardine della democrazia l'informazione è per i cittadini e per le cittadine quindi l'informazione deve avere alti quei valori e deve portare avanti il resto della costituzione a partire dall'articolo 3 che ci vuole tutti uguali ha ben ragione e torno di nuovo all'intervento di Gasparrini ha ben ragione che l'elemento iniziale è quello dell'educazione io che sono una donna del millennio passato andavo a scuola all'elementare in una classe femminile poi c'erano le classi maschili e c'erano anche le classi di quelli che proprio erano cattivi le differenziali non mi ricordo neanche come si chiamavano so che era una situazione che già allora pure in una bambina creava un disagio potente e sono ben contenta invece quando veniamo chiamate a raccontare cosa sono e come scrivono i nostri giornali nelle scuole perché è dalle scuole che si parte ed è dalle scuole che bisogna imparare a saper leggere i giornali a saper ascoltare la televisione però poi diceva Gasparrini ci sono quelli che hanno 40 e 50 anni e quelli li abbiamo persi e a quel punto interviene l'informazione se noi non riusciamo a tenere la barra dritta se noi non riusciamo a dire ministra quando è una donna a occupare il vertice di un ministero ma scriviamo ministro perché lei si vuol fare chiamare così e allora ma perché no chiamiamola così no noi rispondiamo alle nostre lettrici e ai nostri lettori e abbiamo un dovere di rispetto nei loro confronti e nella grammatica accennava la nostra moderatrice al fatto che abbiamo fatto tra l'altro l'ho curato io questo volume stop violenza le parole per dirlo lo abbiamo fatto insieme a delle docenti di media gender perché era indirizzato inizialmente ai giornalisti e non è da giornalista che dico a un mio collega devi scrivere così piuttosto che cosa e allora chiamiamo gli esperti prima ne avevamo fatto uno donne grammatiche e media dove avevamo tagliato corto siamo andate alla crusca e alla crusca abbiamo chiesto di darci una mano perché per dire che architetta si dice architetta e sono contenta che qui la nostra architetta così si faccia chiamare troppe dicono ma ho studiato tanto per diventare architetto perché mi vuoi sminuire chiamandomi con un nome che non c'è perché c'è perché c'è nella grammatica e perché riconoscere che sei architetta vuol dire aiutare tutte le donne ad andare avanti io vado avanti con i nostri orrori di stampa vi invito a leggere la data questo non è stampa questo è il grandissimo film di Ettore Scola dramma della gelosia non sei che una cagna cagna l'installazione 1970 lo poteva fare tortura la compagna per tre settimane dramma della gelosia forse che è un dramma della gelosia quello di torturare segregare se viziare la fidanzata come si legge nell'occhiello la righina sopra e nel sommario le righine sotto o non è quello il dato la violenza usata nei confronti di quella donna e quale gelosia qui non siamo nel 1970 l'ite per gelosia uccide la sconvivente e poi si suicida dove? davanti alla parrocchia ma un buon uomo diciamo così ma non lo vuoi giustificare io nel titolo ti ho detto tutte le ragioni per cui dobbiamo essere dalla parte di lui era geloso ha sofferto tanto si è ammazzato è andato a pregare prima di ammazzarsi cosa vuoi di più? peccato che lei sia morta per mano di lui peccato che lui sia un assassino peccato che nessuna di queste giustificazioni sia accettata dalla nostra dai nostri magistrati non c'è nel codice penale non c'è la gelosia e non c'è neppure il pentimento mi aveva chiamato col nome del suo ex quando mi trovo davanti delle ragazze giovani metto le mani nei capelli e dico per carità state attenti ne uccide 5 per gelosia cioè qui la gelosia è moltiplicata ai 1000 e questo secondo me è il risultato dato che sono i giornali a parlare di gelosia e a giustificare gli assassini questo signor marito di Zina taglia corto lo dite voi che la colpa è quella e quindi è quel mostro lì che mi ha modificato mica sono io è il mostro eh caro nostro filosofo quanto mi piacerebbe interloquire con lei su questa cosa eccola qua io però queste figurine che vorrei togliere eccola le leggi contro la violenza sulle donne tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distensione di sesso era il 1948 e se questo dopo tutti questi anni riuscissimo a fare nostra questo dettato della Costituzione mica sarebbe male 48 passano 20 anni e scopriamo che nelle aule di giustizia c'è ancora la vis grata quelle un paio di ceffoni piace alle ragazze costituisce violenza impiego di forza fisica eccetera eccetera mentre non può raffigurarsi violenza in quella necessaria vincere la naturale ritrosia femminile nel 67 le donne incominciavano a essere in piazza stava incominciando a fermentare in tutto il mondo il movimento femminista la naturale ritrosia femminile era roba di cui non volevano sentir parlare e che invece diventava ancora attenuante nelle aule di giustizia però non mi vanno avanti le slide così eccola andiamo all'82 82 meno di 40 anni fa e ancora il tribunale di Bolzano non siamo a Caltanissetta ma a Bolzano di nuovo si dice che le donne vogliono essere conquistate in maniera rude magari per crearsi una sorta di alibi è da saltare sulle sedie nota a piedi pagina solo con la fine del secolo scorso era il 1996 la violenza contro le donne non più reato contro la morale ma reato contro la persona era ieri che abbiamo conquistato il fatto che la violenza è una cosa che colpisce le persone non l'onore di nuovo le date vi invito a guardare dopo vedremo insieme ancora perché il laureato lui spero spero che molti io mi rendo conto che ci saranno molti che ci ascoltano che sono giovani ma se non l'hanno visto anche il laureato è sicuramente un film da recuperare perché è un film gioioso meraviglioso Dustin Hoffman giovane fa innamorare tutte e finisce con lui che acchiappa lei e scappano via in autobus lei si stava sposando mica con lui forse manca se fosse stato ambientato in Italia la scena finale del marito che li insegue e accoltella lei perché queste sono le notizie che diamo noi lei l'ha uccisa dal fidanzato perché è per pacco voleva lasciarlo che cosa mai avrebbe dovuto fare lui se non ammazzarla o quest'altro signore non accettava la separazione figuriamoci questa è proprio la storia del laureato voleva lasciarmi alla vigilia delle nozze tra l'altro questi erano pure grandicelli Rosina aveva 60 anni quando ha detto beh guarda non mi va questo per amore anziché lei uccide l'amico voglio scusarmi con tutti ho fatto una cazzata uccide la moglie per strada e si toglie la vita le vittime sullo stesso piano allora noi altre come Giulia giornaliste continuiamo ad andare redazione per redazione lo raccontava la nostra moderatrice a portare questi esempi che messi uno dietro l'altro diventano clamorosi se a voi li porto per chiedervi di non leggere distrattamente ai miei colleghi alle mie colleghe li porto colleghi e colleghe molte sono giornaliste a scrivere queste cose li porto perché messi uno dietro l'altro fanno rendere conto di come la pigrizia gli stereotipi il numero di battute raptus ha solo cinque battute per noi fare un titolo si contano sulla punta delle dita le battute raptus è corto violenza è lungo quindi bisogna scegliere quale parola utilizzare no bisogna affermarsi un attimo quando ci sono questi casi e bisogna ragionare che cosa si sta facendo in virtù di quell'articolo 21 in virtù di quella libertà di stampa per riempirla di significato e qui ce l'abbiamo fatto quel primo titolo è stato corretto rapidamente 1,5 mila lettori primo titolo diventano 1,8 mila 300 mila in più su Repubblica si fa in fretta si sono accorti in redazione che le vittime non potevano essere equiparate via quella riga è giusto così dicevo del raptus che ha solo cinque battute in questo caso Girolami era un regista che al raptus credeva davvero pensava che l'uomo fosse mosso da raptus e ha fatto più film non solo questo su questo tema però il raptus per noi è stata una sveglia una sveglia brutale per noi giornalisti Giulia nasce nel 2011 nasce poco prima che venga uccisa Stefania Noce nasce nel novembre e nel dicembre avviene questo ancora omicidio raptus omicida duplice omicidio passionale inarrestabile follia furia omicida per motivi passionali uccisa per gelosia duplice omicidio per motivi passionali allora ci siamo accorti che questa narrazione non poteva funzionare Stefania Noce era una ragazza del movimento se non ora quando si incominciava a ragionare non solo sul corpo delle donne come elemento di promozione di mediaset leveline eccetera ma il corpo delle donne che veniva violato questo i giornali non lo avevano scoperto ce lo hanno fatto sapere le sue compagne di università di Palermo aveva 24 anni e questo signore che l'ha ammazzata il suo fidanzato i motivi passionali il raptus eccetera altro che raptus si era messo davanti alla casa ad aspettarla si narra è venuto fuori dalle carte processuali che si era portato anche un paio di sì mentre al caso mai l'attesa fosse lunga gli fosse venuto un po' di fame e quando Stefania è arrivata non solo l'ha trucidata l'ha riempita di coltellate a lei e al nonno che cercava di difenderla ma tanto non era una cosa scoppiata lì per lì che i giudici hanno riconosciuto la premeditazione e hanno condannato Loris Gagliano cioè l'assassino all'ergastro noi allora come Giulia ci siamo ve l'ho detto siamo davvero in tanti giornali ci siamo messe a ragionare che cosa dovevamo fare per identificare questo tipo di assassini era necessario inserire utilizzare nei nostri giornali una parola che si andava diffendendo soprattutto in America Latina che apparteneva già agli studi femministi femminicidio o femminicidio come scrivere cosa scrivere femminicidio facile scriverlo sui giornali ma neanche per idea i giornali cancellavano regolarmente dai nostri articoli quella parola non c'è femminicidio non esiste no resto ancora qui dobbiamo dire grazie anche a dei colleghi uomini a Saviano una prestigiosa collega di quel giornale aveva scritto in un suo articolo femminicidio e l'era stato cancellato il giorno dopo Saviano ha utilizzato il termine femminicidio ed è finito nel titolo grazie a Roberto Saviano perché da quel momento non solo si è sdoganato l'uso del termine ma Repubblica ha fatto molti interventi ha fatto delle pagine speciali sui social ha approfondito la questione del femminicidio e via via in tutti i giornali siamo riusciti a far passare quel termine nelle leggi è arrivato soltanto l'anno dopo io parlo poco volentieri del giornale e di Libero perché hanno una narrazione come dire una narrazione politicamente scorretta che sembra rivolta davvero solo a una parte del pubblico o solo o soprattutto a creare polemica a destare attenzione per cui è più interessante dal mio punto di vista analizzare che cosa succede sui grandi giornali appunto i Corriere Repubblica la stampa oppure l'editoria locale dove l'errore permettete di chiamarlo così nell'approccio a queste questioni è dovuto a non a dolo non a agli stereotipi si dice così al linguaggio che hai sentito al linguaggio della nutrice poi però ci sono dei titoli come questo che non possono passare inosservati ora chiamare il gigante buono un assassino è veramente un colpo basso ma solo il giornale no perché Repubblica che nel titolo scrive ho fatto una stupidaggine e cerca le giustificazioni di lui o il Corriere della Sera ho sempre le figurine davanti e vi chiedo scusa perché non vedo più bene il slide e dice era la mia ossessione certo è diverso che scrivere il gigante buono ma in ogni caso porta porta fuori da quella dal dal punto di vista di lei cioè raccontiamo sempre dal punto di vista di lui dell'assassino questo è un vecchio articolo del giorno è del vecchio del 2013 sono passati sette anni però per dirvi la ribellione di un uomo debole un uomo piegato da quel rapporto vinto un uomo che è esploso cioè è una narrazione che grazie al cielo vediamo sempre più raramente però poi ci sono delle cose che urlano vendetta che urlano vendetta volevo prendere l'autobus ma ho avuto un raptus oggettivamente fa ridere come volevi prendere l'autobus ed è venuto il raptus e allora fermi il taxi e violenti la tassista beh insomma raptus follia omicida anche se l'uccisione delle donne avviene al culmine di lunghe storie di maltrattamenti e abusi ve lo dicevo la giurisprudenza non accoglie queste giurisprudenza queste queste giustificazioni l'articolo 90 del codice penale dice che gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità punto e basta può essere ubriaco può provare rancore può essere voler vendetta ma tutto ciò mantiene intatta la sanità mentale non è follia è stato accennato al fatto che sono aumentati i femminicidi ma è aumentata la violenza con le donne nel lockdown noi stiamo intervenute con la commissione femminicidio del senato perché non lo possiamo fare direttamente perché purtroppo leggiamo nei comunicati stampa dei carabinieri e della polizia che il lockdown viene presa come nuova giustificazione non più soltanto perché era ubriaco non solo più perché aveva perso il lavoro adesso pure perché è chiuso in casa che gli uomini ammazzano maltrattano picchiano le donne con cui condividono la vita non è il lockdown non è il lockdown e non sono gli altri motivi volevo anche parlarvi delle regole nostre noi abbiamo quello che ora si chiama testo unico dell'informazione non dobbiamo pubblicare i nomi di chi ha subito violenze eccetera a meno che le donne violentate non vogliano non pensino di fare della loro storia un pezzo di una battaglia di tutte le donne dobbiamo evitare questo è importante immagini o fotografie di soggetti coinvolti infatti di cronaca lesivi della dignità della persona le vediamo dopo queste immagini e questa è la novità che però vi porto questo è proprio news 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 ultima ora l'altro giorno il nostro consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in scadenza anzi scaduto avremmo già dovuto votare il covid ha fatto svitare le elezioni ha aggiunto nel nostro piccolo testo unico il rispetto delle differenze di genere ha cioè ripreso alcuni elementi di quel manifesto di Venezia al quale accennava accennava prima la nostra moderatrice la storia Solaris perché queste diventino elementi su cui si può intervenire anche con censure nei confronti delle giornaliste e dei giornalisti che scrivono male bisogna evitare utilizzare stereotipi espressioni lesive della dignità della persona avere linguaggio rispettoso e consapevole assicurare la narrazione rispettosa anche dei familiari e delle persone coinvolte qualche norma però ce l'avevamo già per esempio non si poteva dire baby squillo perché viola la carta di Treviso e la carta di Treviso è quella che difende i minori ora tutelare le persone deboli è un conto le donne non sono persone deboli eccolo qua noi abbiamo la carta di Treviso e poi scopriamo che Repubblica piuttosto che la stampa qua non vi ho portato la slide utilizzano baby squillo baby prostitute e via dicendo ed è e questi sì sono perseguibili e perseguiti dal dal nostro ordine ma prima che essere perseguiti e perseguiti l'interesse forte è che siano le lettrici e lettori a respingere una realtà di questo tipo una bambina non è una prostituta è una bambina violata punto 91 le disubbidienti Thelma e Louise purtroppo le abbiamo viste recentemente paragonate a due premi Nobel no Thelma e Louise non sono paragonabili alle nostre premie Nobel ma ma ci raccontano la disubbidienza delle donne là si buttano nella rupe c'è anche un secondo finale possibile di quel film in cui si vede la macchina che continua il suo viaggio dopo essere caduta dalla rupe qua invece è il fatto quotidiano ecco perché il marito l'ha uccisa infedele è da raddrizzare qui ve lo dico subito prego prego se sto andando per le lunghe di interrompermi quanto volete io poi stringo in una conclusione appena voi ritenete opportuno va bene dottoressa Garambua guardi mi hanno segnalato le colleghe della comunicazione che siamo un po' stretti con i tempi quindi se vi racconto questo e chiudo benissimo così poi passiamo ad alcune domande che sono arrivate molto volentieri la questione delle virgolette che è una cosa con cui i giornalisti si giustificano io metto le virgolette perché questa cosa non è un elemento di titolo che mi invento l'ha detto qualcuno il problema qual è che chi legge la lettrice o il lettore non fa caso alle virgolette e soprattutto nei casi di cronaca nera seppure la cronaca è una delle pagine più lette spesso legge solo il titolo da questo titolo ci resta impresso soltanto che se una donna è infedele e da raddrizzare il marito perché no la può ammazzare io vi scorro le nostre slide molto rapidamente dispetto all'amico gli violenta la mamma ma può essere un dispetto picchia la moglie senza motivo se la pasta era scotta un motivo ce l'avrebbe avuto e vi faccio vedere le immagini l'immagine sempre di lei che è vittima lui non ha ancora sferrato il colpo lei è già lì che si difende c'è questa collezione di immagini in difesa ma perché mai lui lui che è quello che mena in questo caso la stampa utilizza una foto generica di un signore che si sta drogando le altre foto per lo stesso episodio invece raccontano di nuovo lui lei è clamoroso quando questa magnifica modella venne uccisa da Oscar Spistorius questa è stata la foto che hanno pubblicato i giornali ad acchiappare l'attenzione e i click sui social no non si fa così non c'è rispetto per la dignità delle donne non c'è rispetto a raccontare gli assassini nel momento in cui danno baci alle loro ragazze per questo noi abbiamo fatto il manifesto di Venezia grazie grazie a lei dottoressa è veramente una carrellata che fa impressione e devo dire che come lei ben ha sottolineato bisogna come lettori essere molto attenti e critici rispetto a quello che leggiamo dunque io le faccio una domanda che ho visto insomma tra le varie insomma che altri colleghi hanno in altre forme ripetuto ed è questa mi ricollego anche ad uno studio che ho fatto personalmente quindi le chiedo come mai già dal documento di Alma Sabatini del 1987 il sessismo nella lingua italiana venivano messi a fuoco alcuni degli aspetti principali di sessismo linguistico sulla stampa 30 anni dopo nel 2017 è stato nuovamente necessario sottoscrivere un documento quindi il vostro manifesto per affermare la grande responsabilità di mass media nella crescita culturale della società e nell'abbattimento degli stereotipi ho letto poi tra l'altro in questi giorni della notizia che dal primo gennaio 2021 sarà in vigore un nuovo articolo del testo unico sulle regole di deontologia dei giornalisti quindi mi sembra che mi sembra che sia cresciuta l'attenzione della stampa in quest'ultimo periodo ma in che modo in che modo il giornalismo intende attuare una politica di garanzia su questo tema perché come diceva un collega in una di queste considerazioni è anche vero che vanno benissimo le scuse però sono sempre successive alla pubblicazione di un articolo quindi benvengano ma ci può essere un meccanismo di garanzia proprio che impedisca l'uscita di certi articoli no prego semplicemente no avevo e l'ho messa non era ah l'ho messa e l'ho persa ecco non è stata solo Alma Sabatini purtroppo ma ogni dieci anni ci arriva una tirata d'orecchie dopo Alma Sabatini 87 dieci anni dopo un manuale di stile strumenti per semplificazione del linguaggio altri Coug mi hanno chiamata alcune volte per parlare del linguaggio nelle strutture pubbliche e si parte dal linguaggio della semplificazione dove era previsto che di fronte a una donna si usasse femminile ma le amministrazioni non lo hanno fatto sono tutti pubblicazioni governative anche quello di Alma Sabatini nel 2007 le misure per attuare la pari opportunità nel 2008 è arrivato il è arrivato il Parlamento europeo allora cosa si può fare sui giornali dunque guardate io ho messo molta enfasi sulla questione delle scuse semplicemente perché le scuse sono una novità secondo me è una novità non da poco vuol dire che c'è dentro ai giornali io ho detto dentro al sole 24 ore degli anticorpi e rispetto al mattino e all'agenzia Italia la reazione delle lettrici e dei lettori e l'attenzione dei giornali alle lettrici e dei lettori sono dei cambiamenti e di cambiamenti sociali stiamo parlando tutt'altro che secondari vedo anch'io che scusate io faccio un po' fatica a seguire nel frattempo cosa scrivete in chat però che viene detto ma ci sono tanti altri da sanzionare ecco è certo i nostri regolamenti non prevedevano il cumulo delle sanzioni per cui quelli che erano colleghi al passato come feltri non si cumulavano stavo parlando prima delle testate che hanno questo politicamente scorretto nelle loro corde secondo me appunto in modo per enfatizzare anche la loro presenza nell'editoria poi prendono i contributi pubblici quelle testate altre testate non li prendono quindi hanno bisogno di vendere e farsi vedere bene il collega feltri a un certo punto si è reso conto che stavamo cambiando le regole e che quindi il moltiplicarsi di censure e di sospensioni dalla professione che aveva subito sarebbero diventate una cacciata quando sospendi dalla professione un direttore in un giornale è un cataclisma il direttore è responsabile per le leggi di questo paese se non c'è il direttore responsabile diventa stampa clandestina non è uno scherzo sospendere un direttore vuol dire mettere a repentaglio la vita di un giornale vuol dire che in fretta e furia l'editore deve chiappare qualcuno portarlo da un notaio andare in questura registrare una nuova direzione se no il giornale non esce feltri che è uno il quale il quale al tesserino teneva molto prima che gli potesse succedere di essere cacciato ha abbandonato in modo clamoroso l'ordine dei giornalisti l'altro giorno ha scritto un articolo terrificante noi non abbiamo denunciato lui abbiamo denunciato il direttore Sinaldi abbiamo denunciato Facci che ha scritto più o meno lo stesso articolo sull'online noi abbiamo questi strumenti sono i nostri strumenti speriamo che vadano a buon fine io vi ho fatto vedere di Bruno Vespa l'unica cosa che posso dirvi di Bruno Vespa visto che non siamo arrivati sono veri processi quelli che vengono fatti ci sono anche magistrati veri nei nostri consigli di disciplina Bruno Vespa è assolutamente impaurito da questa possibilità perché sono quei colleghi che pensano che davvero un tesserino in tasca non sia uno scherzo essere professionisti sia una cosa importante e quindi li colpiamo così li possiamo colpire certo qualunque altro sistema che cosa censura preventiva Dio ce ne scampi è liberi e poi chi la decide come la libertà di stampa è una cosa seria e va davvero utilizzate le pinze noi facciamo appelli pubblici a colleghe e colleghi e vi devo dire che hanno grande effetto ne abbiamo fatto uno recentemente dopo la cattiva informazione che è stata fatta su un delitto nel torinese e ci sono state reazioni nelle redazioni cioè si discute secondo noi discutere incominciare ragionare nelle redazioni di questi temi è giusto è sbagliato come si fa a scrivere come è più giusto scrivere vuol dire mettere il tarlo del dubbio che è l'inizio secondo noi di un diverso approccio con questa materia scusate la mia breve interruzione volevo avvertire che all'incirca tra quattro minuti diciamo ci saranno i saluti per cui se Rossella vuole introdurre qualche altra domanda più o meno questo è il tempo a disposizione grazie no allora vado avanti bio ho letto leggo ora che si fa riferimento a quell'incredibile servizio del programma di Rai 2 sulla sulla signorina che andava a fare la spesa alzando la gambetta quando lo abbiamo visto pensavamo che fosse una cosa ironica quando ci si è reso conto che non era ironica da impallidire noi no purtroppo non ci occupiamo direttamente per fortuna almeno di quello no abbiamo già molto da fare di quello che passa nella programmazione ma stiamo molto attenti quando questo incrocia l'informazione sono due cose diverse purtroppo sono due cose che nel momento in cui c'è una programmazione 24 ore su 24 come è la televisione davvero la confusione fra informazione infotainment e show diventa un tutt'uno una marmellata in cui per fortuna ogni tanto qualcosa succede non sono affatto convinta che il sistema sia quello semplice di cancellare i programmi credo che la via culturale sia quella più giusta le scuse se il direttore Salini le voleva fare le poteva fare altrove e non necessariamente in un programma che è registrato e non avrebbe potuto approfittare della diretta benissimo benissimo sì allora sì mi sembra l'unica strada percorribile quella di essere dei lettori critici e di aumentare quindi proprio dal basso la consapevolezza di certi meccanismi proprio per contrastare questa la violenza e l'azione anche di giornali che non operano correttamente quindi a questo punto se c'è il presidente in linea Elvira no ancora non è entrato e allora rispondo a Samantha in virtù della libertà di parola sono sdoganati insulti offrese il linguaggio violente no Samantha la nostra architetta no assolutamente no noi abbiamo delle regole in ogni caso severe e quindi veramente se di fronte non serviva come quello che diceva Rossella Salaris quell'elemento in più di attenzione alle donne nel nostro testo unico quando c'è una violenza e un attacco alla dignità della persona in ogni caso si interviene quello che poi è il linguaggio d'odio è altro mi dite se posso intervenire a voce perché in realtà stavo finendo di scrivere poi mi sono trattenuta visti i tempi stretti no in realtà era una riflessione legata al binomio tra libertà di parole e libertà di stampa perché allora se diciamo che la libertà di stampa non si può ostacolare allora allo stesso modo la libertà di parola neanche si dovrebbe ostacolare e mi viene in mente quella frase che dice bisogna essere intolleranti con gli intolleranti e allora non so mi immagino che la questione sia complessa però ti confesso la situazione è complessa la dico molto velocemente noi non lavoriamo solo sul linguaggio però siamo nella rete nazionale per il contrasto ai fenomeni e al linguaggio d'odio e abbiamo partecipato l'abbiamo presentata l'altro giorno la mappa dell'intolleranza insieme a Vox l'osservatorio sui diritti la statale di Milano l'università di Padova e quella di Bari il linguaggio d'odio è un fenomeno che passa sui social che è per il quale bisogna trovare gli strumenti per ammortizzarlo e debellarlo noi siamo colpite come giornaliste in particolare in prima persona il linguaggio d'odio colpisce prima di tutto le donne poi quest'anno nella classifica l'altro anno erano i migranti quest'anno è passato avanti l'islam ha superato i migranti se ne avete piacere la mappa oltre che sul nostro sito di Giulia è disponibile la trovate facilmente su internet quest'anno abbiamo lavorato con loro perché ci siamo rese conto che per noi giornaliste non solo attaccate come donne ma attaccate perché ci si vede l'odio sta diventando una vera censura noi abbiamo colleghe in mezzo al mare con le navi dell'organizzazione con le ONG che vengono nel frattempo attaccate non solo con un linguaggio violento sessista ma con espressioni e aggressioni e minacce vergognose tali da mettere in difficoltà nel tranquillo svolgimento del loro lavoro abbiamo colleghe che si occupano in particolare di Africa che sono state costrette a chiudere i loro social perché la pressione che arrivava da questo linguaggio da queste minacce da questi insulti era tale che li metteva psicologicamente in difficoltà noi avremo di nuovo purtroppo non più pubbliche questa era stata un'occasione pubblica abbiamo domani un corso sui giornalisti proprio per approfondire questi temi certo hai ragione Samanta è un problema enorme quello del linguaggio d'odio dottoressa Garambois noi la ringraziamo moltissimo per l'intervento perché è stato molto esaustivo e toccante con appunto le slide che riguardavano questioni assolutamente di attualità che ci toccano proprio in prima persona credo che il presidente e il dottor Laporta sia arrivato per cui cederei a lui la parola per concludere questa mattinata molto interessante e toccante eccomi buongiorno spero mi sentiate e mi vediate ormai buongiorno buongiorno a tutte e a tutti queste videoconferenze ormai ci hanno anche improvvisato registi tecnici dell'audio quindi spero che diciamo ormai la mia perizia su questa su questa materia tecnica sia sia arrivata a un punto giusto per consentirmi di collegarmi senza evitando diciamo o che non mi si veda o che non mi si senta ma io intanto vorrei davvero portare a tutte le colleghe le donne collegate a tutti i colleghi i due uomini che si sono collegati oggi per ascoltare questo questo nostro webinar questo nostro seminario un saluto un saluto caloroso perché mi sembra che sia un'iniziativa davvero significativa prima di tutto voglio ringraziare gli ospiti i relatori che sono intervenuti in questa mattinata i relatori Samantha Sinistri Anna Maria Giannini Lorenzo Gasparrini e Silvia Garamboa e poi volevo anche ringraziare il Cug la nostra presidente Elvira Gatta che ha reso possibile anche quest'anno e nonostante una situazione complessa a causa della pandemia che ha reso possibile la celebrazione in ispra della giornata internazionale contro la violenza sulle donne più che una celebrazione vorrei dire un momento di riflessione un momento di approfondimento anche se mi permettete mi piacerebbe che queste giornate costituissero un momento di impegno da parte di tutti su questi temi e notizia ancora di stamattina leggevo in agenzie di stampa un'oretta fa dell'ennesimo femminicidio dell'ennesimo credo storicidio Pordenone questa mattina è stata uttisa dal marito compagno ancora non è dato sapere un'altra donna accoltellate in una diciamo in un contesto che ancora dice di quanta violenza ci sia sulle donne e di quanto sia ancora lungo il cammino da affrontare e che ci dice anche come la violenza contro le donne non conosce confini tra nord e sud del paese tra zone tra virgolette più ricche e meno ricche tra zone in qualche modo con più disagio senza disagio non mi pare che in questo caso ci sia alcun tipo di differenza sembra che ci siano invece atteggiamenti di violenza ripetuti che francamente sono inaccettabili e ingiustificabili però come dicevo questo evento come ormai ogni anno cerchiamo di fare nel nostro istituto e tra l'altro gli eventi online ci consentono anche di uscire dal nostro recinto di lavoro dal nostro contesto di lavoro e mi auguro quindi che abbiano raggiunto anche altre persone però questi eventi non possono avere solo un valore meramente celebrativo o commemorativo o simbolico per quanto siano importanti perché non è che non sia importante anche celebrare e anche commemorare però devono e vogliono avere un obiettivo più ampio più ambizioso che è quello di sensibilizzare i presenti su un tema come dicevo prima così attuale che è quello della violenza di genere perché occorre continuare a mantenere le luci accese su questo fenomeno che è un fenomeno francamente abberrante per una società che si voglia definire civile è sostanzialmente una contraddizione interna quindi spero mi auguro anzi sono convinto ho ascoltato solo l'ultima parte di questo di questo interessante dibattito poi magari ne faremo una riflessione interna anche con le colleghe i colleghi del club però io mi auguro veramente che questa mattinata di scambio di opinioni di riflessioni collettive possa aver portato ciascuno di noi ad aumentare la propria coscienza e consapevolezza su questo tema e come ho detto anche negli anni precedenti questo è un tema che non si può affrontare e vincere senza il contributo coerente costante univoco di uomini e donne noi uomini non siamo una parte differente rispetto a questo tema e non siamo neanche l'altra parte se mi permettete la controparte ma siamo insieme dobbiamo essere insieme uniti per fronteggiare e risolvere questo tema che è un tema sì di violenza un tema da codice penale ma come dico spesso è un tema di cultura e di sensibilità di tutti uomini e donne che deve proprio partire dalle giovani generazioni quindi l'auspicio è che ciascuno di noi riflettendo su questi temi si immedesimi nelle donne vittime di violenza e direi anche nelle famiglie di queste donne perché poi non è facile neanche saper accettare e gestire la dimensione psicologica di una violenza di questo tipo all'interno delle proprie famiglie anche se molti di questi atti avvengono purtroppo proprio all'interno dei contesti familiari perché dobbiamo riuscire dobbiamo sforzarci e riuscire a determinare quel cambiamento culturale anche nelle relazioni interpersonali anche sui luoghi di lavoro che porti ad una convivenza sociale fondata sul rispetto reciproco e sul rispetto della diversità anzi sull'accettazione della diversità di genere come un valore aggiunto e in qualche modo complementare quindi porti a vivere in un contesto fondato sulla tolleranza nei confronti e sul rispetto nei confronti dell'altro ma con un atteggiamento di tolleranza zero nei confronti della violenza maschile contro le donne e da ultimo perché non voglio appesantire il dibattito con considerazioni che sicuramente che ha parlato prima di me avrà svolto in maniera più approfondita e anche scientificamente più dettagliata vorrei anche fare un accenno ad un aspetto che mi pare ugualmente importante e cioè che dobbiamo anche saper contrastare la violenza di genere anche attraverso un linguaggio meno violento un linguaggio depurato decontaminato dai commenti osceni dal doppio senso volgare da quella battuta che magari ogni tanto ti fa a mezza bocca col sorriso ma che cela un'offesa e un atteggiamento di disprezzo nei confronti del genere femminile anche decontaminare il linguaggio da una serie di stereotipi che il più delle volte umiliano ed offendono la donna e quindi prendiamoci tutti l'impegno di segnalare o denunciare nei casi più gravi ma di rifiutare espressamente tutte quelle espressioni che segnano o sembrano voler legittimare mancanza di rispetto denigrazione della sessualità e della libertà femminile a volte creando non possiamo dire certo che questo avvenga in maniera involontaria delle forme di aggressione verbale che purtroppo costituiscono tante volte il substrato su cui poi si costruiscono violenze di carattere fisico e psicologico allora con questo rinnovato impegno da parte di tutti noi dell'ISPRA uomini e donne donne e uomini del nostro istituto e del nostro sistema nazionale e con questo impegno per quanto mi riguarda mio a portare avanti questa sensibilizzazione di tutti a partire dal nostro contesto lavorativo che torno a salutarvi a ringraziarvi le colleghe del FUG e della comunicazione peraltro all'ingresso dell'istituto è stato organizzato un bellissimo totem che è anche molto diretto molto esplicito nel linguaggio ma che in qualche modo individua o segnala un percorso di violenza anche verbale contro le donne e con questo augurio e con questo auspicio vi ringrazio ancora tutti di struto e vi auguro un buon lavoro ecco non fermiamoci oggi è un ragionamento che dura tutto l'anno e questi appuntamenti devono essere solo delle tappe diciamo di riflessione ma anche degli stimoli per andare avanti grazie ancora a tutti e buon lavoro grazie presidente la ringraziamo moltissimo perché è un segno tangibile della sensibilità di Ispra nei confronti di questo fenomeno così abberrante che purtroppo diciamo appunto viviamo nella nostra società e che dobbiamo combattere giorno per giorno infatti non deve essere un'iniziativa isolata deve essere un'iniziativa diciamo che deve essere portata avanti giorno per giorno nell'ambiente di lavoro e anche nelle nostre famiglie un percorso che deve portare a un mutamento culturale della nostra società grazie presidente grazie a voi ancora buona giornata grazie buona giornata lascerei la parola a Rossella a questo punto per i saluti poi la riprendo io a mia volta saluterò e possiamo considerare conclusa la mattinata bene allora io saluto tutti ringrazio veramente tantissimo le nostre relatrici e il professor Gasparrini che ci hanno veramente fatto reso più consapevoli di una problematica così sotterranea e come componente del Cug sono vi rendo noto che affronteremo sicuramente approfondiremo il questo argomento del linguaggio ed è una nostra un nostro prossimo obiettivo che sicuramente perseguiremo con compassione e tenacia ringrazio quindi tutti quelli che hanno partecipato la la nostra presidente Elvira Gatta che adesso le passerò la parola e ovviamente sempre le colleghe della comunicazione che sono state veramente molto attente e professionali grazie a tutte e a tutti e arrivederci allora anch'io saluto tutte e tutte in particolar modo i relatori che ci hanno accompagnato in questo percorso questa mattina personalmente mi sento molto molto toccata da quello che ho ascoltato oggi e che mi accompagnerà oggi ma anche nei giorni a venire perché ha comunque contribuito a a farmi diciamo sviluppare un ulteriore senso critico rispetto a ciò che leggerò e rispetto alle appunto alle frasi che mi che ascolterò nei giorni prossimi io per il lavoro che faccio oltre a quello che faccio normalmente appunto in qualità di presidente Cug pensavo di essere abbastanza attenta al linguaggio che io utilizzavo oppure a saper interpretare le frasi che mi venivano rivolte però appunto da quando mi occupo con maggiore attenzione di queste tematiche mi sono resa conto che la criticità diciamo lo spirito critico che prima utilizzavo nell'interpretare ciò che leggevo ciò che mi veniva detto non era sufficientemente diciamo così allertato adesso invece che faccio più attenzione all'interpretazione da dare a ciò che leggo e a ciò che sento mi aiuta molto a sviluppare ancora di più il senso critico e ad interpretare nel giusto modo tutto ciò che leggo e che sento e questo che abbiamo fatto questa mattina questa esperienza che abbiamo condiviso questa mattina penso che mi aiuterà sicuramente in questo percorso così come aiuterà tanti e tante di voi anche perché dai messaggi che sto leggendo diciamo che questo evento questa mattina ha riscontrato veramente un importante un grande successo e penso che sia stato molto coinvolgente nonostante diciamo la modalità con cui è stato svolto che è appunto quella a distanza ma lo è stato comunque molto nonostante questo che io trovo quella modalità a distanza io la trovo un po' limitante rispetto ad un evento in presenza nonostante ciò però penso che con la collaborazione di tutti e grazie agli interventi veramente regni di contenuto si sia raggiunto un livello veramente elevato di condivisione anche e soprattutto rispetto ai contenuti che ci avete trasmesso quindi veramente grazie ai relatori da parte penso di tutte e tutti i presenti grazie